Allora, il giorno della memoria è ormai alle porte e il giorno in cui è quasi come un obbligo, bisogna ricordare quel che accadde nei terribili anni della guerra, la Shoah, Auschwitz, tutto quello che sappiamo. Ma questa sera c'è quello che mi permetto di definire un evento, qui su questa rete è la Sette. Ci colleghiamo con l'ex ospedale psichiatrico Paolo Pini di Milano, Gad Lerner, Marco Paolini. Ciao Enrico, io posso solo dirti che ieri ho assistito alle prove generali di questa testimonianza, di questo racconto che Marco Paolini farà a questa sera. Ausmerzen, vite indegne di essere vissute. L'hai detto, è un evento, è qualcosa che sarà stampato nella nostra memoria e per quanto riguarda noi che lavoriamo alla Sette vorrei dire che dobbiamo essere orgogliosi di trasmetterlo e probabilmente anche di intuire l'attualità di questo racconto sulle vite di scarto, su quelli che sarebbero i mangiatori a sbafo, quelli che pesano sulla società e che tutto sommato si considera opportuno eliminare anche per risparmiare, per stare meglio. Una domanda a Paolini, se mi posso permettere. Paolini, che cosa si impara mettendo in scena questo, riflettendo alla storia? Se vuole la verità, credo un sacco di domande scomode, domande alle quali sono stato messo davanti, su cui era presuntuoso avere la risposta in tasca. Io stasera vorrei non avere l'aria di uno che racconta qualcosa che sa bene, perché questa storia non la sapevo manco io e me ne sono non solo vergognato, è qualcosa che probabilmente mi ha fatto chiedere perché diavolo non la sapevo. E provo a raccontare questo. E allora lo seguiremo tutti insieme. Paolini, ci vediamo domani sera per riparlarne? È un'imboscata! Sì. Ci spero, ci spero. Vedrete che ne varrà la pena. Chi lo guarderà di certo non se lo dimenticherà. Zachor, diciamo in ebraico, l'imperativo, tu ricorda. Ma quello straordinario artista narratore che risponde al nome di Marco Paolini, questa sera ci dice che abbiamo una memoria che è stata rubata, la memoria dello sterminio dei mangiatori inutili. Chi sono? Vi chiederete. Lo saprete presto. I mangiatori a sbafogli inutili. Un sterminio perpetrato da una nazione che come un corpo, come se fosse un corpo, pretendeva di ripulirsi il sangue per rinforzarsi. Memoria rubata. Un Zachor, un tu ricorda, che ci coglie alla sprovvista perché dobbiamo anche chiederci se questo purificare il sangue, ripulirselo, migliorare la specie non sia una logica che è sopravvissuta agli anni dello sterminio. E così Marco Paolini ci ha portato qui. Bella la pubblicità, vero? Che bel posto avrete pensato con quegli alberi, un grande giardino, con quei capotti appesi chissà di chi sono. Ma provate a Milano a chiedere cos'è il Paolo Pini. I vecchi lo sanno che cosa gli dicevano, vero signora Maria Fantoni? Se fai lo scemo, faminga lo scemo che ti sbattono al Paolo Pini. Proprio così. Ho proprio visto dei casi simili. Sa che c'è dentro, più tardi lo ascolteremo, uno psichiatra che lavorava qui 35 anni fa e non ci metteva più piedi da 35 anni e mi ha detto che questa sera ha provato un moto quasi di nausea, di shock, pensando a quello che succedeva qui dentro. Lei per fortuna ci è arrivata un po' dopo, ma mica tanto tempo dopo. Nell'81. Quindi è qui dentro da 30 anni precisi, 30 anni che vive in questo luogo e dove vedremo adesso la testimonianza, il racconto di Paolini? Che cos'è? Che posto era? Cosa ci facevate? Io sono stata un po' dove c'è il centro diurno, poi sono passata in un reparto che si chiamava Prima. Ma qui dentro? Adesso dove andiamo? Ah, qui c'era la cucina e la mensa per i dipendenti. Ho capito. Quindi voi malati o ricoverati o degenti? Perché poi malati è una parola Io giravo un po' in bicicletta. Vedo che scaldano le vivande. È grande il Paolo Pino. Giravo un po' in biciclette e sono passata un paio di volte e ho visto che c'erano tutte le persone ai tavoli. I ricoverati qui erano centinaia se non migliaia negli anni precedenti al suo arrivo. Precidenti sì, ma quando sono arrivata io no. C'era parecchia gente però. Adesso si può andare avanti e indietro tranquilli, ma una volta non era così. Quel muro che non circonda, qui siamo nella periferia nord di Milano, verso Quattro Giaro, quel muro là fuori intorno al giardino non si valicava? Beh, si valicava col permesso, cioè presentando un permesso in portineria. Questo dopo che nel 1978 è entrata in vigore la famosa legge Basaglia. Io signora, credo che valga la pena che ci avviamo. A vedere lo spettacolo. Ecco, credo che vederlo insieme ci aiuterà a ragionare dopo sul nesso, sull'attualità tra quello che è successo in Germania tra il 1933 e il 1945. Badate bene, 1945 vuol dire anche dopo la sconfitta del nazismo e non soltanto prima. E quello che può succedere ancora oggi, in un paese, facciamo le corne e cornacce, ma intorno… Il padre bisogna combatterlo sempre. Esatto. La radice, quando si vede che delle persone sono malintenzionate, bisogna intervenire. E se invece quelle persone fossero bene intenzionate, questo credo dovremmo farci spiegare da Marco Paolini. Se quelle persone fossero in buona fede, convinte di fare del bene, convinte che questo sia… Allora sono stupide. Quanti siamo stupidi? Quanti ci abituiamo all'idea che in fondo se ci sono dei superflui è anche nel loro bene porre termine alla loro infelicità? Venga Maria, andiamo. Andiamo. Andiamo insieme. Andiamo. Andiamo dentro alla ex sala delle mese. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Molto. Chissà, potreste ritrovare il vostro? Le cose a volte durano anche dopo di noi e parlano di noi. Ecco, tutto quello che dico stasera parla di noi, anche se uso parole straniere. Aus Merzen. E il suono è dolce. Aus Merzen. Viene da Marzo, la radice del verbo. A Marzo è una parola di pastori, sa di terra, senti l'odore. Prima della transumanza, gli agnelli, le pecore che non reggono la marcia vanno soppressi. Alla fine della belle epoca, cento anni fa, i dottori dell'eugenetica prendono due strade. Per gli inglesi si tratta di to eradicate illness, sradicare la malattia. Per i tedeschi diventa Aus Merzen, sopprimere i deboli. sapete com'è finita, no? Ricordate Primo Levi? Primo Levi è il suo dottore, Primo Levi è il dottor Panwitz. Quando sono stato di nuovo un uomo libero, ho desiderato incontrarlo ancora, non per vendetta, per una curiosità dell'animo umano, perché lo sguardo che corse tra me e lui, lo sguardo, se io sapessi spiegare a fondo la natura di quello sguardo, scambiato come attraverso la parete di un acquario, io sarei anche stato in grado di spiegare l'essenza della follia della terza Germania. Tutto quello che noi, dei tedeschi, pensavamo, si percepì in quel momento in modo immediato, il cervello che sovraintendeva a quegli occhi azzurri, a quelle mani curate, a quel cervello, diceva Questa cosa davanti a me appartiene a un genere che è ovviamente opportuno sopprimere. Ecco, stasera la storia di uno sterminio di massa di cui si parla solo ai convegni di psichiatri, conosciuto come Action T4. T4 è un indirizzo di Berlino, la strada del giardino dello zoo, Tiengartenstrasse numero 4. Action T4 ha ucciso e in gran parte è passato per il cammino circa 300.000 vite umane indegne di essere vissute. Questi cominciarono a morire prima però, prima dei campi di concentramento, prima degli ebrei, prima degli zingari, prima degli omosessuali, prima dei comunisti. e continuarono a morire dopo. Sì, dopo che tutto era finito. Siamo in Germania, nel sud, in Baviera, a luglio. La città si chiama Kaufbeuren, la provincia della Sassonia. C'è un edificio più grande degli altri in quella città e ha la facciata dipinta di nero. Beh, i bombardamenti sono finiti da pochi mesi? Davanti alla facciata dell'edificio è un cartello luogo per sanare e curare. Wird irgendetwas mit mir geschehen? Probabilmente nella foto non c'è, ma in quel momento ce n'è un altro che dice zona infestata da epidemie. È un ospedale psichiatrico. L'ospedale di Kaufbeuren Irzee. Rapporto di un ufficiale del comando americano che si trova proprio davanti all'ospedale psichiatrico. sollecito vostra attenzione su allegato rapporto e fotografie riguardanti condizioni ospedale psichiatrico Kaufbeuren. Quando è stata scoperta la situazione dell'istituto i funzionari hanno preso i provvedimenti necessari. Alcuni rappresentanti della stampa sono venuti a conoscenza della notizia. È stato chiesto loro di non mettere in risalto la logica deduzione di una non curanza delle forze armate americane visto che le vicende hanno continuato a svolgersi per oltre un mese dopo l'occupazione di Kaufbeuren a meno di un tiro di schioppo dal comando alleato. Segue descrizione dell'evento ma questo ufficiale tenente colonnello Kurz della cavalleria degli Stati Uniti fornisce anche un rapporto confidenziale che spiega più in sintesi le stesse cose. Uso il secondo. Un vero e proprio centro di sterminio ha funzionato fino a questa data a meno di mezzo miglio dal comando. Qui in questo paese idilliaco ogni cittadino era perfettamente informato del fatto che esseri umani venivano utilizzati come cavi e massacrati sistematicamente. I responsabili e i collaboratori passivi non sono in alcun modo mi succederà qualcosa ogni monello ogni bambino di quella cittadina sapeva. Se gli chiedi che cosa fanno lì ti risponde da si vusi si umbring lì e dove uccidono. il dottore Valentin Faltlauser direttore dell'istituto è stato arrestato l'infermiera capo del reparto pediatrico è stata arrestata ha ammesso stamattina di aver ricevuto un'attività per questa attività extra un compenso di 35 marchi al mese l'ultimo bambino ucciso è stato da lei avvelenato il 29 maggio 1945 33 giorni che le truppe americane ebbero occupato Kaufbeuren la cartella clinica di questo bambino di 4 anni ce l'abbiamo si chiama Riccardo abbiamo la foto sappiamo tutto di lui ma se c'è un ultimo ci sarà anche un primo anche del primo abbiamo la cartella clinica sì allora Hitler è andato al potere nel 33 siamo nel 45 sono 12 anni è successo tutto lì no no per raccontare questa storia devo andare un po' indietro almeno alla belle époque un secolo fa che le te belle la belle époque la vellumiere la tour Eiffel sì che le te belle che le te belle la belle époque è luce prima le città si illuminano di acetilene e subito dopo di energia elettrica dal buio la luce progresso significa cavalli a vapore che corrono e uniscono gli spazi significa il cinematografo i raggi X i viaggi organizzati ma anche l'aspirina è stata scoperta nella belle époque Einstein ha formulato la teoria della relatività nella belle époque ma per noi la belle époque continua a restare la tour Eiffel perché? perché le belle perché le belle perché le belle e infatti era il cancello dell'expo nel 1889 hanno inaugurato l'expo e la torre l'avevano tirata su in due anni mica scherzi passavi sotto la torre e alla tua destra entrando all'expo c'era un giardino zoologico speciale per bipedi bipedi selvaggi pericolosi dietro le gabbie vuoi vedere vuoi vedere i selvaggi del Borneo quella è la gabbia andiamo a vedere andiamo a vedere i nomadi del Sahara eccoli là allo stato brado ricostruita nella gabbia il loro ambiente naturale vuoi vedere i selvaggi dell'Amazzonia che ammazzano col curaro di chi sei curioso chissà se gli mettevano il pigiama alla sera per dormire ma certo come esperienza antropologica era eccitante o sì il racismo non è mai nuovo c'è da prima sono idee antiche ma alla fine dell'ottocento queste idee antiche trovano una conferma razionale nella scienza guarda dove va l'evoluzione della razza umana mangiavi zucchero filato pagavi il biglietto guardavi la tour Eiffel guardavi di là delle sbarre capivi che avevi avuto culo tu sì eri razza evoluta rispetto a loro mai c'è stato un tempo in cui gli scienziati sono diventati sacerdoti del futuro come quello mai un tempo così privo di dubbi è anche un tempo in cui la scienza galoppa certo c'è Darwin ma c'è anche il cugino di Darwin lo conoscete si chiamava Galton ma hai fatto l'amore in un sacco a pelo Galton ha inventato il sacco a pelo gli dovete almeno questo si è messo a piovere mentre facevate l'amore Galton ha battezzato l'anticiclone ma di cosa si occupava Galton di tutto sapeva tutto laureato in niente lo scienziato tipico del tempo di Sherlock Holmes a Darwin dicevano guarda tuo cugino che bravo non è per questo che lo ricordiamo stasera perché lo ricordiamo perché Galton ha battezzato una scienza leugenetica leugenetica la scienza dell'ereditarietà si guardava intorno Galton e si chiedeva perché ogni tanto ne nasce uno sbagliato perché ogni tanto ne nasce uno di brutto ma soprattutto perché ne nascono così tante di brutte fossero tutte belle sai che scelta l'ideale eugenetico di Galton è la pupa e il secchione incrociare le belle con gli intelligenti e obbligarli ad accoppiarsi per migliorare la razza umana ma è difficile che funzioni così sai uno vuol scegliere e allora almeno si può impedire che quelli sbagliati si riproducano questo è leugenetica la filosofia scientifica che autorizza a sterilizzare qualcuno perché non si riproduca sono idee ma trovano gambe trovano gambe e consensi scientifici in un mondo eccitato dal futuro dal progresso infatti uno dei paledini dell'eugenetica è un uomo che ha sfondato una porta del progresso Bell l'inventore del telefono il grande industriale fece una ricerca all'interno di un campione isolato di americani sulla sordità e stabilì che la sordità era male ereditario l'uomo che aveva in mano la compagnia dei telefoni propose di sterilizzare i sordi per il bene del progresso così tutti potevano sentire il suo telefono non c'era conflitto di interessi ma consonanza di interessi miglioramento della razza umana sono idee ma queste idee pian piano producono la selezione dei caratteri voluti e non voluti significa in pratica decidere chi vogliamo e chi non vogliamo di questo si accorge l'Europa è un uomo in Europa se ne accorge tra i primi o almeno per noi lui è importante al tempo in cui scrive questo suo diario 1922 egli è solo un caporale austriaco della prima guerra mondiale finito in galera ma poi diventerà qualcuno quel signore coi baffi Mein Kampf Adolf Hitler c'è uno stato in cui si manifestano i miei si manifestano i primi indizi di una concezione migliore e questo stato non è la nostra esemplare repubblica tedesca è l'unione americana dove si tenta di fare almeno in parte appello alla ragione l'unione americana rifiuta i cattivi elementi dell'immigrazione esclude certe razze dalla concessione della cittadinanza e con questo pronuncia già anche se in modo debole una mentalità propria del concetto nazionale di stato sono idee come quelle che due anni prima di questo scritto di Adolf Hitler hanno portato un medico e un giudice nello stesso paese a scrivere un libretto intitolato il permesso di annientare vite indegne di essere vissute di Freigabe der Vernichtung Lebens um verten Lebens eppure ha sempre un suono dolce una parola terribile in quella lingua è solo un libro sono solo idee di qua e di là dell'oceano ci si può ragionare quando queste idee galoppano bene negli Stati Uniti d'America la sterilizzazione porta già negli anni 20 a 250 mila persone trattate nell'Europa nella Germania questo accadrà un po' più tardi negli anni 30 cosa c'è che lo fa scattare io non voglio raccontare le cose come se ci fossero delle cause ed effetti predeterminati che le cose siano così però è fondamentale per capire quello che succede in Germania negli anni 30 un evento una crisi di portata mondiale la crisi economica del 1929 che in America spinge la gente come uomini e topi sulle strade perdendo il proprio lavoro la propria dignità di esseri umani ma anche nella civile Europa quella cosa spazza via le fragili democrazie e mette la gente chi magari il posto di lavoro non lo perde ma con quel lavoro con quel salario non compra più niente inflazione galoppante con l'intero salario compri il biglietto del tram oppure un uovo e la mattina dopo il costo dell'uovo è raddoppiato non basta una valigia di soldi ce ne vogliono due ti conviene spendere subito se spendi subito la domanda aumenta l'inflazione corre galoppa cosa c'entra se in una situazione in cui tu non hai più soldi per badare alla tua famiglia qualcuno ti dice che a spese dello Stato vengono mantenuti impunemente all'interno delle strutture sociali pubbliche persone che non lavorano ma mangiano la cosa non ti sarà indifferente uno dei risultati della Belle Epoque è la creazione dei manicomi i manicomi nascono in Francia ma si allargano all'Inghilterra alla Germania all'Italia i manicomi europei si assomigliano tutti sono piccole città con biali alberati con i loro padiglioni sono riproduzioni di mondi in cui si può vivere e se permettete rispetto a prima quei ghetti rappresentavano un passo avanti rappresentavano la possibilità di vita per alcune persone anche di lavoro di organizzazione di una comunità beh tutto questo diventa più difficile da sopportare nel momento in cui devi stringere la cinghia nella Germania degli anni 30 tu puoi trovarti a imparare a scuola una materia come la genetica in questo modo una singola alcolista nata nel 1810 aveva 890 discendenti nel 1929 la metà era mentalmente ritardata 181 puttane 142 mendicanti 76 criminali 7 assassini 40 dormono all'albergo dei poveri questa donna in un secolo è costata allo stato 5 milioni di marchi pagati da gente sana e di valore non con i piselli di Mendel così si insegnava la genetica negli anni 30 nei licei tedeschi oppure la matematica alle elementari un pazzo costa allo stato 4 marchi al giorno uno storpio 5,50 un criminale 3,50 e in molti casi un impiegato statale guadagna 3 marchi e 50 per ogni componente della sua famiglia un operaio non specializzato meno di 2 secondo un calcolo approssimativo in Germania gli epilettici i pazzi gli schizofrenici sono 300.000 calcoliamo quanto costano a un costo medio di 4 marchi quanti prestiti di 100 marchi alle coppie di giovani sposi si ricaverebbero all'anno con quella somma la risposta è un numero per il bambino che ha fatto il problema e una bestemmia per il papà che lo ha aiutato che cosa c'è in mezzo tra un libretto il diario di un caporale è un testo scolastico c'è un governo c'è un salto di velocità nell'esecuzione di un programma che è una priorità di una nazione c'è un'idea che si è fatta politica Hitler va al potere nel 1933 a gennaio nel mese di giugno il suo ministro Frick annuncia che in giro ci sono 500.000 cittadini geneticamente inaccettabili io penso che non stia parlando di me casomai quello del piano di sopra non saluta mai ho sempre pensato che sia un po' geneticamente inaccettabile un milione di persone mangiano a sbafo un milione di persone sono in carico alla società sono in carico alle forze buone della società questo è nel mese di giugno il 14 luglio del 1939 si vara la legge sulla sterilizzazione lo stesso giorno si aboliscono i partiti così la prima cosa ad essere sterilizzata è la democrazia che non si riproduca non si sa mai vengono istituite di seguito 181 corti genetiche che devono esaminare le posizioni chi va all'esame delle corti genetiche beh tutte le persone che hanno patologie ereditarie la questione è l'ereditarietà c'è l'idea che molte malattie siano ereditarie quindi bisogna tagliarle tagliarle sul nascere per perché? per pulire il sangue da cosa? il sangue di una nazione dipende dalla salute dall'igiene dei suoi abitanti e quando un evento come una guerra ed era finita la prima guerra mondiale da 15 anni quando un evento come la guerra mondiale massacra una generazione chi muore sui campi di battaglia? gli eroi chi sopravvive gli inutili e la percentuale di essi si è alzata oltre la soglia di guardia i sani sono meno non ce la fanno a reggere il peso degli altri è una macchina potente che non è solamente fatta ovviamente dei problemi scolastici ma che da quel momento in poi diventa una campagna martellante di informazione che passa attraverso la propaganda manifesti che spiegano che ci sono persone malate ereditariamente che rendono la vita degli altri più difficile per il peso c'è fisicamente la rappresentazione del malato che pesa come un bilanciere sulle spalle degli uomini produttivi ci sono uomini sani che devono prendersi cura di mostri inaccettabili questa macchina è fatta anche di documentari di tipo scientifico che vengono messi in produzione in quegli anni che servono a diffondere all'interno dell'ambiente medico scientifico i principi eugenetici da una parte vanno i tribunali delle corti genetiche e in un anno nel 34 esaminano 96.000 casi e sterilizzano 70.000 persone ma cosa credete che sia un giochetto sterilizzare c'è un indice di mortalità dell'1% sono quasi tutte donne quelle che muoiono perché direttamente direi che è più facile sterilizzare un uomo che non una donna dall'anno successivo ne sterilizzano 50.000 50.000 50.000 e velocemente sorpassano gli stati uniti d'America c'è un manifesto in particolare che spiega alla nazione che quello che stiamo facendo non è un'idea soltanto nostra non è il nazismo che crea queste idee è da queste idee che si forma il nazismo in questo clima in questo manifesto lo vedete c'è l'orgoglio dello sforzo di una nazione ma a fianco ci sono le bandiere delle altre nazioni che stanno già facendo questo chi ha sterilizzato i disabili i malati di mente la Svezia la Danimarca la Norvegia la Svizzera gli Stati Uniti d'America lo hanno già fatto ci sta pensando il Giappone dice quel manifesto lo farà anche la civile Inghilterra le idee hanno bisogno di gambe un po' di tempo in Germania in quegli anni al ritmo di 50.000 all'anno si sterilizzano 400.000 persone poi praticamente il numero crolla crolla verticalmente diventa quasi zero ridicolo dal 1939 in poi si smette di sterilizzare perché? perché siamo pronti per fare quello che nessuno ha ancora fatto Ausmerzen eliminare chi rallenta la marcia perché? bisogna che le idee camminino ma un'intera classe di medici in cinque anni ha cominciato a formarsi avendo l'eugenetica come materia fondante della loro disciplina un'intera classe di psichiatri ha potuto cominciare a familiarizzarsi con queste idee nuove audaci e stiamo parlando di un paese in cui la ricerca medico-scientifica è tra le più avanzate al mondo quindi pieno di luminari quindi pieno di persone autorevoli in campo mondiale che si convertono a delle idee audaci ma in qualche maniera fondate su qualcosa che per loro è un problema già ho capito però si tratta ancora di idee giusto? e voglio dire un conto è scriverlo su un libro un conto è farlo ci sarà l'ho detto all'inizio della serata cosa vi ho detto? che c'è un ultimo e quindi c'è un primo il primo c'è è del 1939 ed è un bambino si comincia con un bambino un neonato perché è più facile non ti sei affezionato? questa storia inizia a febbraio del 39 nasce il bambino in un paesino della Sassonia che si chiama Pomsen vicino a Lipsia a Lipsia cara a Goethe in questo paesino un uomo un contadino ha finalmente il suo primo genito ma non è come voleva lui non gli è venuto bene il bambino ha una gamba sola un braccio solo non ci vede ah secondo lui è anche idiota e allora scrive scrive una lettera una supplica al suo capo ad Adolf Hitler al capo della nazione e gli dice ho avuto questo bambino ma questo bambino noi non sappiamo come fare se il signore se lo prendesse oh sì l'uomo a cui è indirizzata la lettera in graduatoria sta appena sotto quel signore è onnipotente e riceve direttamente la lettera degli ultimi cittadini della nazione perché agli onnipotenti piace avere un filo diretto con le persone e quando uno si rivolge a un onnipotente smette di essere cittadino e diventa suddito e ai tiranni piace ricevere le suppliche dei sudditi e poterli aiutare perché credetemi è così difficile fare qualcosa per tanti è così liberatorio poter fare qualcosa per qualcuno aiutarne uno una e dargli qualcosa di significativo questo è la lettera del contadino di Pommsen ad Adolf Hitler ora come fa il Führer a ricevere la lettera del contadino di Pommsen mi sono chiesto beh intanto la sua posta non andava alla cancelleria dello Stato del Reich ce n'era una sua personale accanto la cancelleria del Führer lì chi ci lavora? oh un gruppo di giovanotti età media 30 anni in carriera provano a farsi le scarpe uno con l'altro sono rapidi scattanti abili veloci anche perché scusate ma sono tutti di primo pelo nessuno di loro stava in un posto così prestigioso prima hanno avuto soltanto il culo di trovarsi nel partito giusto al momento giusto e arrivare lì non avete idea all'epoca che carriera si poteva fare trovandosi al momento giusto nel partito giusto arrivi in una posizione straordinaria di controllo delle cose il capo della cancelleria del Reich si dice gerarca certo è il gerarca Buller ho scritto lì Philip Buller sotto di lui c'è il gerarca Viktor Brach è un vice e sta cercando di fare le scarpe al suo capo ma è una competizione onesta comunque è il vice e Brach che riceve la lettera del contodino invece di darla al suo capo la mette sul tavolo di Adolf Hitler lui sa che ad Adolf Hitler queste cose piacciono non so che rapporto avete voi con i matti perché io per raccontare questa storia ho dovuto chiedermelo più di una volta lo so non sono tutti simpatici beh Hitler deve avere dei problemi molto particolari con la categoria perché racconta sempre la storia di quelli che sono seduti nella segatura e non riescono a distinguere il cibo dallo sterco per lui certa gente non dovrebbe stare al mondo ne parla continuamente arriva la lettera di un contadino che dice guarda cosa mi è successo Hitler la prende a cuore chiama il suo medico personale Karl Brandt e gli dice vai in Sassonia vai a Pomsen vai da quel contadino se è vero quello che dice il contadino fate a quel bambino la puntura e se qualche giudice avesse da dire qualcosa dite che l'ho detto io di quanto va a fare il medico di Hitler in Sassonia viene messo a parte Leonardo Conti o nome italiano interessante no mi dispiace tranquilli con la coscienza non ci sono italiani in questa storia Leonardo Conti era uno svizzero del canton Ticino nazista della prima ora anche lui si trova niente meno che la segreteria di stato con l'incarico di capo dei medici del Reich lui è a parte della missione di Brandt Brandt va in Sassonia vede il bambino e ammazza il bambino muore il 25 luglio 1939 con una puntura cosa c'entra Conti perché l'ho nominato perché meno di un mese dopo il 18 agosto del 1939 insieme Conti manda ai medici di famiglia e alle ostetriche una circolare che ha quella sigla scritta sul muro 4B3088 barra 39 1079 è una circolare riservata in cui si chiede a tutti i medici di famiglia e alle ostetriche di segnalare le nascite di bambini mentalmente ritardati o malformati con malattie ereditarie non ne deve scappare uno se Erode fosse stato più organizzato il ministro Frick in vario modo dentro a quel gruppo di nomi che stanno al ministero degli interni perché nella Germania nazista non c'era un ministero della sanità e tutti i dottori dipendevano direttamente dal ministero degli interni e dal ministro Frick che aveva messo la missione dell'eugenetica del pulire il sangue come centro del programma di quel governo bene da lì viene creata una associazione per lo studio anzi un comitato per lo studio delle gravi malattie ereditarie e a questo comitato che dovranno essere inviate le segnalazioni sui nuovi nati sui neonati malformati la sede di questo comitato non è però nel palazzo del governo ma è a parte dove in una palazzina nella strada del giardino dello zoo all'indirizzo Tiengartenstrasse numero 4 T4 è stata sequestrata ad un ebreo e lì si mettono a lavorare una serie di persone che non sono gli uscieri ministeriali i funzionari ministeriali che non hanno a che fare con il resto della macchina amministrativa della nazione ma un gruppo di persone in grado di fare un lavoro delicato senza chiacchierare troppo in giro formalizziamolo meglio che cos'è T4 beh se volete T4 ha un suo schema difficile leggerlo la lingua il segno di matita questo è stato tracciato da Victor Braque in una cella a Norimberga durante il processo per crimini di guerra a cui è stato sottoposto questa fa parte della sua deposizione giurata ed è la ricostruzione della struttura che era stata creata adesso avete visto semplicemente un foglio da questo momento in poi voglio farvi capire quello che ho capito io di come funzionava ma credetemi non è facile però allo stesso tempo è terribilmente semplice ed è efficiente è un miglioramento di una macchina amministrativa T4 funziona come una holding come una partecipata statale ha un finanziamento dello Stato che permette di stipendiare delle persone il cui operato deve consentire allo Stato di operare un sostanziale risparmio della spesa sanitaria e al tempo stesso svolgere per la nazione una funzione importante che è quella di pulire il sangue non si è mai visto uno sforzo collettivo così grande che consideri la popolazione come un unico corpo che in qualche maniera fa quello che facevano i ciclisti quando andavano a mettere il loro sangue nelle banche per pulirselo è un delirio tecnologico di questo tipo bisogna fare dei sacrifici per arrivare ad un sangue più pulito che circoli meglio che dia maggiori e migliori prestazioni come agisce T4 immediatamente dopo diciamo la action dedicata ai bambini qualcuno fa presente al Führer che bisognerebbe aprire anche il canale per sopprimere i malati di mente molti dei quali sono già sterilizzati ma stanno continuando a mangiare viva Dio e dunque bisogna bisogna operare direttamente passando dalla sterilizzazione all'eutanasia ed è così che accanto all'azione fatta sui medici di famiglia e sulle ostetriche comincia quella verso gli psichiatri e i direttori degli ospedali psichiatrici a cui viene chiesto di inviare le liste di tutti quelli che sono improduttivi inguaribili e che quindi non sono utili siamo in tempo di guerra mi stai chiedendo le liste di tutti quelli che sono improduttivi di tutti quelli che sono inutili ho paura che magari tu mi stia dicendo dammi questa lista e poi mi porti via tutti quelli che sono utili magari li mandi a lavorare al fronte ma io questi malati li conosco questi malati me li voglio tenere e allora cosa fanno all'inizio alcuni direttori davanti a questa richiesta inseriscono nelle liste dei malati gravi anche quelli che magari così gravi non sono perché se li vogliono tenere perché sono convinti che altrimenti rischierebbero di perderli queste liste di persone vengono indirizzate ad un comitato che serve a trattare le malattie ereditarie sulla base delle nuove ricerche medico-scientifiche fatte da un paese che ha la ricerca neurologica più avanzata al mondo tutti sanno che quelle malattie non hanno speranze di cura però siamo in un paese dove la ricerca avanza veloce e quando queste cose sono scritte nero su bianco ecco che si può immaginare che qualcuno a tutto questo ci abbia anche creduto non tutti altri no ma il risultato è che queste liste di persone vanno dove? nello stesso indirizzo dove stanno arrivando le liste dei bambini Tiengartenstrasse numero 4 le liste dei neonati vengono esaminate da medici le liste dei malati di mente esaminate da psichiatri e via via un comitato scientifico crea la base di un censimento della popolazione su cui fare quella cosa chiamata trattamento 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 al tempo stesso qualcuno si chiede dove lo facciamo? voglio dire ammazzare non è uno ci vorranno dei luoghi già a questo pensa una delle tre società di Azion T4 una fondazione una fondazione che si annette una serie di istituti di luoghi che sono ex qualcosa ex manicomi ex carceri ex istituti per anziani sono palazzi sono castelli donati in beneficenza magari a qualche istituzione della chiesa da cui il personale viene sloggiato e in questi si vanno ad installare che cosa? innanzitutto da questi posti mandata via la gente si mettono recensioni si mettono cartelli che dicono che la zona è infestata da epidemie si fa in maniera che nessuno vada a curiosare poi in alcuni di questi in particolare si incomincia in un posto che si chiama Brandenburg no eh poi si continua in un altro posto che si chiama Grafeneg poi si va in un posto che si chiama Artheim poi Benburg Sonnenstein Adamar già perché diavolo devo fare sfoggio di un cattivo tedesco e dire dei nomi che non ci dicono niente anche a me non dicevano niente perché questi nomi non sono quelli che sapevo già Auschwitz Mauthausen quelli li sapevo anch'io li sappiamo tutti quelli sono già entrati no? ma questi Grafnek Brandenburg Benburg cosa sono? questi sono i luoghi dove hanno imparato a fare le cose perché scusate ma non è facile ammazzare c'è un modo si sbaglia anche bisogna fare pratica ed è meglio non farla davanti ad occhi indiscretti questi luoghi sono luoghi isolati all'inizio in maniera che non si veda quello che succede state guardando Adamar si non è una cartolina pubblicitaria quello che state vedendo quello che esce dal cammino è esattamente quello che vi state immaginando è un forno crematorio devo dirlo esplicitamente però Adamar non è un ospedale isolato recintato con la scritta zona infestata da epidemia no quella è la collina il parco della città e il manicomio è il luogo più alto della città questa foto è scattata da un cittadino che vede questa cosa dalle sue finestre da un certo punto in poi non serve nemmeno più scegliere dei luoghi isolati e scrivere zona infestata da epidemie perché la brava gente con il tempo si abitua e non si chiede più che cosa sia quella cosa siamo capaci di abituarci a tutto il posto che ho nominato per primo Brandenburg è un ex carcere nel quale si fanno le prime iniezioni ai bambini e nel quale si sperimentano le camere a gas è il laboratorio per eccellenza è il luogo nel quale chi fa le punture i capi perché in questo modo dimostrano ai loro sottoposti di essere in grado di sopportare la stessa pressione che poi chiederanno a loro chi apre per la prima volta i rubinetti delle bombole del gas i capi litigando tra loro perché sono imbrianati e se apri male una bombola di gas fischia e se fischia la gente si spaventa e tutto viene segnato tutto viene indicato nei rapporti per spiegare come si fa si comincia a scrivere quanto tempo ci vuole perché quella gente muoia bisogna osservarli e sapere come va fatto ma poi bisogna anche chiedere all'industria farmaceutica grandi quantitativi di psicofarmaci da utilizzare in overdose per far morire i bambini poi bisogna capire quale tipo di sostanze chimiche ci servono dall'industria chimica c'è una grande disponibilità di partecipazione allo sforzo perché tutto sommato Action T4 si mette sul mercato con una sua mission molto precisa e si comporta con fatture con un suo bilancio autonomo all'interno di questa attività spendendo denaro dello Stato trattando con dei fornitori per organizzare in proprio un'attività che ha uno scopo risparmiare 500 medici sono coinvolti in questo processo ma Cristo Santo stiamo parlando di una macchina che si è messa in moto ma c'è una legge che prevede questo no ancora no dovrebbero farla però c'è talmente fretta che non c'è sì però voglio dire c'è un ministero della giustizia se un giudice dicesse ma quello che state facendo è legale potrebbe bloccare tutto questo siamo in una dittatura ma la giustizia esiste lo stesso ne sono consapevoli i collaboratori di Hitler che vogliono assecondare il suo desiderio di fare eutanasia dei malati di mente e dei disabili ma hanno anche paura delle conseguenze perché voglio dire un conto è scriverlo su un libro un conto e sapere che c'è qualcuno che lo sta facendo poi a questa gente se qualcuno comincia ad attizzargli contro a degli criminali assassini chi ci difende? Su cosa si fonda Action T4? Già i collaboratori di Hitler insistono per avere una legge ma lui non è d'accordo però alla fine qualcosa gli dà qualcosa glielo dà qualcosa da cui parte tutto c'è eccola qui guardatela è una lettera se fossi a colori è carta intestata personale del capo di Hitler carta intestata sarebbe d'oro l'aquila là in alto quella sì sarebbe d'oro anche il nome sotto è molto raffinata poi c'è la data Berlin primo settembre 1939 e dice il Gerarca Buller il dottor Brandt sono incaricati sotto la propria responsabilità di estendere le competenze di alcuni medici da loro nominati autorizzandoli a concedere la morte per grazia ai malati considerati incurabili secondo l'umano giudizio previa valutazione critica del loro stato di malattia questo pezzo di carta mette in moto questa macchina e vale 300.000 persone 300.000 vite umane questo pezzo di carta privato come chiameremo noi oggi una roba così italiani come lo chiamiamo un pizzino è comodo però è comodo dire i nazisti sono una cupola i nazisti sono un'associazione delinquere come la mafia cioè quelli quelli là fuori da sé trattano il resto del mondo come terreno di caccia quindi sono i cattivi come la mafia ma è comodo perché action t4 a differenza dell'olocausto non è esercitato da gente indifisa con la fascia da SS da gente con i mitra spianati no a chi è rivolta la lettera del dottor Conti la circolare 4B 3088 barra 39 ai medici di famiglia e alle ostetriche nella civile Germania i medici di famiglia sono un'istituzione statale sono medici e funzionari e sono capillarmente diffusi nella nazione più delle poste se viene qualcuno con la divisa a casa mia e mi chiede di consegnare mio figlio storpio lo faccio correre con i cani ma se viene il mio medico di famiglia a dirmi che lo Stato ha trovato delle cure pericolose ma che offrono una speranza chi speranza non aveva mettiti al posto di quel genitore non vorresti avere una speranza che non hai ancora avuto i medici di famiglia sono un cavallo di troia potente per un inganno mostruoso 500 di essi sono i destinatari di quella lettera e lavorano per raccogliere il consenso dei loro colleghi vengono creati dei consultori sono 22 per il trattamento esperto delle malattie ereditarie consultori nei quali i genitori possono portare i loro bambini andarli a visitare vedere che sono luoghi dove ci si prende cura di loro ma poi c'è lo scatto successivo lo scatto successivo è un trasferimento dal momento che il genitore ha firmato per il ricovero del bambino nel centro per il trattamento esperto delle malattie ereditarie medici funzionari decidono come fare l'assistenza esperta e in quali luoghi farla 22 consultori sparsi nel territorio raccolgono i bambini che poi vengono trasferiti in luoghi lontani da quelli di nascita e da quelli in cui stanno risiedendo i genitori la stessa cosa nello stesso modo con indirizzi leggermente diversi accade per i malati di mente una volta inseriti nelle liste una volta accertata la loro posizione se ne ordina il trasferimento lì la macchina è ancora più semplice sono una dozzina di psichiatri che prendono in esame le cartelle cliniche dei malati segnalati una dozzina di psichiatri per un volume di decine di migliaia di malati fanno un'attività enorme lavorano ce n'è uno che esamina da solo 5.700 casi in poco più di tre mesi stiamo dicendo 50 casi al giorno sabati e domeniche comprese sarà perché sono pagati a cottimo che lavorano così bene ma in ogni caso questi psichiatri questo nucleo di psichiatri prende in esame cartelle di pazienti che non conosce ma che sono stati a loro segnalati l'insieme di queste cartelle viene indicato a dei supervisori i supervisori sono tre il loro indirizzo Tiengardenstrasse numero 4 naturalmente non stanno fisicamente lì ma è da lì che viene smistato questo traffico e queste persone sono dei luminari della psichiatria sono e anche i loro colleghi che preparano le cartelle sono spesso gli psichiatri più progressisti del ventennio precedente gente che aveva fatto di tutto per affrontare la malattia mentale nel miglior modo possibile guardate che questa gente era davvero un faro per gli studenti per altre nazioni quello che avevano scritto e provato a fare era un esempio per tutti sono queste le persone che poi si ritrovano a gestire le cartelle cliniche per l'eutanasia di stato cartelle cliniche che vengono affrontate con una penna bicolore ciò che viene chiesto alluminare e mettere un segno più o meno che cosa vorresti se ti danno il più sei promosso sei ammesso al trattamento se ti mettono meno resti in manicomio se ti mettono il punto di domanda vuol dire che sei sulla strada buona ma devi fare di più per essere trattato sei centri di eutanasia con i nomi che vi ho detto prima sparsi nel territorio della Germania smaltiscono un traffico che evidentemente parte dai singoli manicomi con i bambini si usano le iniezioni con i malati di mente si usa il gas si è sperimentato lì l'uso del gas essi vengono trasferiti dalla terza società del progetto Action T4 è tutto ben organizzato si chiama società di pubblica utilità di trasporto sono dei grossi pullman con i vetri oscurati in base a delle bolle d'accompagnamento prelevano i loro pazienti c'è un breve preavviso per avvisare il personale degli ospedali psichiatrici dei prelievi i trasferimenti avvengono su questi pullman ma è evidente che il personale che ne fa parte che ci viaggia non è non è abituato a trattare con dei malati i bravi infermieri se ne accorgono subito se uno ha paura perché vuol dire che non sai lavorare con dei pazienti certo che non sanno lavorare altrimenti perché diavolo mettono la camicia di forza a chiunque abbia più di dieci anni perché quelli che sono allettati vengono incatenati dove vuoi che vadano le ammassano sui pulmini non sono ancora i convogli con i vagoni piombati che vanno alle fabbriche dello sterminio ma da qualche parte bisognerà pur imparare a movimentare la gente e allora un pulmino dà meno problemi di un treno intero 30 40 persone ammassate lì dentro per viaggi che Hitler gli vada riconosciuto ha costruito grandi opere pubbliche come le autostrattie non erano certo confortevoli e se duravano due giorni li facevano impazzire due giorni senza mangiare due giorni senza bere due giorni dentro una camicia di forza diventano matti non è una consolazione sapere che qualcuno lo era già no perché la paura è qualcosa che ha a che fare con l'umano e trascende trascende è contagiosa è contagiosa quanto male puoi stare due giorni lì dentro beh tanto sei vita indegna di essere vissuta sei al di sotto di un parametro quindi quindi quando arrivi comunque sia dignitosamente in questi luoghi lì si mandava a fare una doccia ma spesso dopo la doccia non c'era più bisogno d'altro i malati trasferiti dai manicomi in questi centri vengono uccisi praticamente subito o quasi subito ma è importante fare presto perché è importante contenere le spese perché c'è un altro carico che sta arrivando le attenzioni venivano date veniva fatta una visita medica di precisione prima di avviare alle camere a gas in forma di docce questa visita medica serviva a verificare l'eventuale presenza di denti d'oro chi li aveva veniva marchiato con un pezzo di nastro adesivo sulla schiena perché era un peccato buttarlo via era un peccato buttarlo via i corpi venivano cremati ovviamente nei forni ovviamente così andava cominciava con una lettera di questo tipo lo informo che suo figlio in base alla pianificazione economica e alle misure di sgombero è stato trasferito in altro ricovero non sappiamo in quale l'ordine di trasferimento è partito da uffici superiori secondo la direttiva del commissario di difesa del Reich il nostro ospedale non ha possibilità di influire sulla decisione del trasferimento o meno dei pazienti lei sarà informata a tempo debito dal nuovo ospizio sullo stato di salute di sua figlia questa è la risposta della madre oggi ho ricevuto ho ricevuto la sua lettera proprio quando avevo finito di prepararmi per prendere il treno di mezzogiorno per venire a trovare la mia figliola all'ospedale ero paralizzata dallo spavento leggendo la lettera una cosa del genere è terribile per una madre se avessi saputo che un nuovo trasferimento della mia ragazza sarebbe stato possibile avrei insistito per portarmela a casa lei mi informa di non sapere dove essa sia stata trasferita ma sicuramente lei non può permettere un trasferimento senza essere a conoscenza di dove andrà quindi io esigo di sapere dove è mia figlia all'inizio del ricovero io stavo male perché molte persone mi facevano girare la testa con brutte parole da quando ho iniziato a venire a trovare regolarmente la mia figlia Elisabetta nel reparto per l'assistenza esperta dei bambini creato anche nel vostro ospedale ho creduto che le mie preoccupazioni iniziali fossero ingiustificate non è come diceva la gente pensavo fino ad oggi ho pensato che la ragazza fosse stata data in buone mani le chiedo sotto la mia responsabilità di riprendere la ragazza nel suo ospedale io la verrò a trovare è impossibile per me informare i miei familiari di quanto è accaduto mi salteranno addosso mi diranno non è possibile che tu sua madre non sai dov'è tua figlia io non posso fare niente per prima cosa devo sapere dov'è la mia ragazza come già detto mi sembra impossibile che potete trasferire una ragazza senza aver chiesto prima i genitori se succedesse qualcosa alla ragazza siamo in grado di pagare i funerali gentile signora siamo molto spiacenti in dover comunicare che sua figlia trasferita 19 febbraio 1939 in questo istituto per decisione del commissario alla salute del Reich è deceduta improvvisamente il 18 gennaio per arresto cardiaco considerando la gravità della malattia da cui essa era affetta la vita per la defunta non era che una sofferenza per cui la morte deve essere considerata una liberazione essendoci in questo periodo pericolo di epidemia all'interno dell'istituto le autorità di polizia hanno ordinato immediata cremazione della salma la preghiamo di comunicarci a quale cimitero inviare urna per le ceneri per ogni informazione la preghiamo di scriverci perché le visite sono proibite da polizia per ragioni sanitarie 5.000 sono i bambini più o meno ufficialmente censiti in azion t4 come sterminati ma 5.000 madri non sono censite ma prima o poi l'avranno capito che cosa hanno fatto o no nessuno è stato trattato senza il consenso dei genitori il consenso era un trattamento ma cosa hanno fatto quando l'hanno capito chi ha scritto quelle lettere si chiamano segretarie di conforto un mestiere poco invidiabile dovevano personalizzare le lettere per fare in maniera che non si assomigliassero ma erano migliaia migliaia di lettere le segretarie di conforto erano probabilmente le uniche persone letterate all'interno di quella organizzazione ma dormivano in caserma insieme agli autisti e ai facchini che movimentavano i pulmini e ai fochisti che alimentavano i fornicrematori perché quella società action t4 di fatto nelle sue sei sedi di attività non teneva contatti con l'esterno è come se è come se un esercito occupante si muovesse all'interno di una nazione i festini li facevano tra loro ci sono cronache raccapriccianti di come passavano il tempo io immagino che dovessero sfogarsi immagino anche che avere un posto remunerato lontano dal fronte in tempo di guerra fosse considerata una buona soluzione per cavarsela comunque sia action t4 finisce improvvisamente il primo settembre 1941 così come era cominciata il primo settembre 1939 in maniera ufficiale con la lettera di Hitler che è un falso storico perché questa lettera in realtà lui la firmò due mesi dopo d'accordo il primo settembre del 39 doveva invadere la Polonia aveva altro da fare ma è interessante che la firma su questo atto sia stata predatata il primo settembre perché? perché se devi ammazzare la gente una legge che coincida con l'inizio di una guerra è più sopportabile è come se ci fosse uno stato marziale ma il primo settembre la guerra non è stata dichiarata solo al resto del mondo ma anche ai propri cittadini al di sotto dei parametri e credimi se tu riesci ad ammazzare i tuoi figli poi far fuori degli estranei risulta meno difficile comunque si interrompe tutto il primo settembre del 41 perché? è un'operazione molto riservata questa squadra di gente lavora in maniera discreta tutto è stato bene organizzato ma anche in una dittatura non riesce a censurare i necrologi è morto lo zio Hans ah lo zio Hans era matto lo zio Hans sì era in manicomio lo zio Hans finché era vivo era un bel rompiballe lo zio Hans ma quando muore diventa il povero Hans è incredibile quanti meriti acquistiamo quando moriamo è morto il povero Hans e tutto il paese dice ah il povero Hans il povero Hans e dove è morto? ad Adamar anche lui guardi la pagina dei necrologi quel giorno metti ce n'è un altro morto ad Adamar ma magari qualcun altro se in due anni in sei manicomi muoiono diecimila persone cinquemila all'anno qualche domanda te la fai o no? la brava gente di Adamar si chiedeva che cos'era quel fumo lo sapevano le dame di carità perché non ditemi che nel partito nazista non verranno dame di carità perché io sono convinto che ce n'erano e di altissima qualità morale donne donne di chiesa che sentendo sussurrare che ammazzavano i bambini avranno detto in buona fede se il Führer sapesse se Hitler non può aver saputo tutto il capo è sempre innocente sono dei maiali vicino a lui che hanno combinato questa porcata questo avranno pensato e comunque sia opposizioni ce n'erano state piccole difficili da raccontare ma c'erano state finché poi un uomo alzò la voce in maniera più decisa in queste storie c'è sempre un piccolo gruppo di persone molto convinta di quello che fa di solito ce n'è un altro gruppo assolutamente contrario e numericamente è uguale a quello deciso e convinto ma guardate che di solito questi numeri sono piccolissimi quel che c'è in mezzo è enorme è tutta brava gente che non sa cosa fare ma quando uno della brava gente decide di fare di solito riesce a fare qualcosa di incredibile quello che fa il leone di Münster il vescovo von Galen merita di essere narrato e indicato come esempio è ricordato un uomo in chiesa dice questi sono omicidi ed è uno sterminio queste sono un frammento delle parole di Galen hai tu o io il diritto alla vita solo finché siamo produttivi ritenuti produttivi da altri se si ammette il principio ora applicato che l'uomo improduttivo possa essere ucciso guai a tutti noi guai a tutti noi quando saremo vecchi e decrepiti se possono uccidere gli improduttivi guai agli invalidi che nel processo produttivo hanno impegnato le forze le ossa sane e le hanno perse guai ai soldati che tornano in patria mutilati e invalidi chi è al sicuro della sua vita lo censurano lo censurano ma Hitler dice basta puoi essere il grande dittatore ma se in fianco a te non hai quella cosa che si chiama consenso sei finito e qui il rischio è troppo grande se perdiamo consenso la gente ha mangiato la foglia dice basta chiudete quei luoghi ufficialmente T4 cessa e abbiamo anche il bilancio perché gli americani subito dopo quello che hanno scoperto a Kaufbeuren sono furiosi e vanno a cercare negli ospedali psichiatrici dove le cose stavano continuando e tra le altre cose in un posto che si chiama Hardtime trovano questa lista della spesa oh noi abbiamo trovato nei nostri armadi in un tribunale militare a Roma la lista delle stragi impunite della seconda guerra mondiale abbiamo anche noi i nostri armadi della vergogna dimenticati questo lo hanno trovato quasi subito diceva è stato calcolato fino al primo settembre 1941 sono stati disinfettati 70.273 pazienti calcolando un costo giornaliero di 3 marchi e 50 abbiamo fatto risparmiare 4 milioni 781 mila 339 virgola 72 chili pane 19 milioni 754 mila 325 virgola 27 chili patate e poi caffè zucchero zucchero mele salsicce burro legumi pasta prosciutto verdure di campo spezie sale formaggio ricotta 33 milioni 733 mila 0 33 virgola 40 chilogrammi più nebst 2 milioni 124 568 stucco 2 milioni 124 568 uova abbiamo risparmiato continuando così in dieci anni l'uno per cento della popolazione non graverebbe più sulla spesa sanitaria è nero su bianco la lista della spesa e ufficialmente T4 finisce e il suo bilancio è scritto lì 70 mila 273 persone ma è diverso da quello che vi ho detto io all'inizio vi ho detto un altro numero stasera quanti quanti erano nel mio bilancio iniziale beh non serve neanche fare il calcolo che manca qualcuno giusto? ne mancano tanti 300 mila è una stima in certi conteggi sono meno ma in ogni caso ne mancano tantissimi e quei tanti cominciano a morire fuori da action T4 finisce solo ufficialmente in realtà si smette di spostarli con il pulmino si smette di far funzionare quelle camere a gas il personale di T4 viene impiegato nella soluzione finale l'esperienza accumulata viene riversata nel lavoro sui campi di sterminio da qualche parte bisogna incominciare a imparare come si fa e poi c'è la fabbrica ma i disabili beh non c'è più bisogno né dei pulmini né dei sei centri pilota né delle liste né dell'ufficio in Tiengartenstrasse tutto troppo scoperto tutto troppo evidente e allora come si fa eutanasia? ma gli psichiatri hanno imparato come si fa e gli infermieri hanno visto portare via la gente e la brava gente dopo un po' smette di brontolare e fa quello che ci si aspetta da loro era stupefatto l'ufficiale Kurz della Cavalleria degli Stati Uniti di quello che aveva visto fare a una suora a un'infermiera non c'è più bisogno di campi di sterminio questa non è una storia di campi di concentramento questa se volete è una storia di campi di decentramento perché da questo momento perché da questo momento in poi ognuno di quelli morirà a casa sua con il suo dialetto con la sua gente accanto la mortalità negli ospedali psichiatrici esplode e come li fai morire già come li fai morire sempre durante i conflitti nei manicomi si fa decimazione è sempre successo se non ce n'è per i soldati al fronte vuoi che ce ne sia per i matti nel 1942 un anno dopo la fine ufficiale del processo T4 di Action T4 a Monaco di Baviera nel sud della Germania vengono convocati tutti i direttori i direttori dei manicomi venite qua cosa sta succedendo i malati muoiono di tifo c'è epidemia di tubercolosi e poi ci sono quelli che muoiono di fame questa è la ragione della convocazione in realtà lo scopo è un altro quando arrivano lì gli dicono non state rispettando le tabelle abbiamo bisogno di accelerare i decessi cosa possiamo fare per avere un risultato più consono a quello che ci aspettiamo da voi perché c'è la guerra da mandare avanti non possiamo sfamare certe bocche sono nütslose essen mangiatori inutili mangiatori inutili questo sono gli ebrei nütslose essen gli ebrei sono malati i malati sono disabili i disabili sono mangiatori inutili quindi gli ebrei mangiatori inutili nütslose essen il concetto di mangiasbafo se tu hai un fardello da portare sulle spalle diventa più pesante da reggere cosa possiamo fare per ridurre questi mangiasbafo nei manicomi alza la mano il direttore di un manicomio del sud della Germania si chiama Valentin Faltlauser e io stasera l'ho già nominato era un era uno psichiatra progressista prima della guerra e dirige l'ospedale psichiatrico di Kav Boyren Irzee ed è anche uno dei dodici psichiatri che esaminano le cartelle di Action T4 qui c'è il suo nome alza la mano e dice noi a Kav Boyren Irzee abbiamo risultati migliori applichiamo una dieta assolutamente povera di grassi la chiamo dieta E una dieta povera di grassi il nostro sogno vero? vedi come le parole cambiano di significato questa è una dieta assolutamente priva di grassi assolutamente diventa ufficiale per tutti i manicomi del sud della Germania la dieta E di Kav Boyren secondo il dottor Fattlauser in un tempo variabile da 6 a 10 12 settimane i malati muoiono muoiono per edema da fame funziona la dieta E è per quelli che non per quelli con cui non funziona la dieta si può ricorrere a iniezioni psicofarmaci barbiturici in overdosi in maniera da sospendere le funzioni vitali del malato in maniera che poi gli muoia da solo torno ai cappotti adesso ce ne sono delle pareti intere coperte di cappotti qui mi fanno venire in mente una cosa e prima non vi ho detto rispetto all'attività di quelle signore che mandavano le lettere di conforto ai malati ai genitori le segretarie quando dicevano che il paziente era morto e che la lettera di solito arrivava alla famiglia in leggero ritardo sul decesso era scientifico a termini di regolamento non potevano reclamare gli effetti personali oltre 14 giorni dalla data del decesso le lettere venivano mandate in ritardo così nessuno poteva reclamare nulla e io mi ero chiesto a chi potevano interessare le povere cose contenute in una valigia di un bambino avviato a un centro per il trattamento delle malattie o di uno che ha passato la vita in manicomio a chi possono interessare gli stracci i quattro poveri vestiti di questa gente e poi ho pensato alle cataste di scarpe di Auschwitz alle cataste di capelli di Auschwitz alle cataste di capotti di Auschwitz e ho pensato che in un'economia di scala queste cose sono commodities commodities materia prima di un'economia di guerra ma c'è un'altra cosa c'è un'altra cosa che ho pensato che la cosa più preziosa di queste persone non la portavano nei vestiti nei denti d'oro no ce l'avevano addosso più gravi erano le malattie meglio era mai la scienza medica la ricerca medico-scientifica ha avuto a disposizione una simile scelta di campioni umani parti anatomiche cervelli per la ricerca le migliori tavole anatomiche di cui disponiamo sono ancora quelle realizzate in Germania in quegli anni ciò che sappiamo sul caldo e sul freddo dipende dagli esperimenti fatti nei campi di concentramento per esempio le scienze neuropatologiche un solo medico direttore del Kaiser Willem Institute di Monaco il dottor Haller Borden e i suoi collaboratori andavano in questi luoghi a selezionare personalmente i pazienti per la propria collezione la collezione di cervelli del dottor Haller Borden arrivò a contenere 697 cervelli umani che sono stati studiati poi molto preziosi per la ricerca medica ma io mi domando ma santi Dio quando uno si laurea in medicina da qualche parte ci sono le avvertenze manipolare con cura sulle informazioni che ha raccolto c'è una traccia dell'esistenza delle cavie non volontarie non pretendo tanto mi sembra soltanto un minimo di connessione tra l'oggetto che si studia e la storia della scienza che quelle cose ha insegnato e ci trasmette spesso molto utili non può finire qua bisogna parlarne ancora ma stavo parlando di manicomi di Campania di manicomi di Baviera stavo parlando di un manicomio Kaufbeuren no? eccoci sarà così come questo un manicomio di Campania dove la gente muore di fame per quelli che non muoiono di fame e beh per quelli che non muoiono di fame si fanno le punture come nel caso di Ernest Lossa Ernest Lossa 1929 1944 adesso ve ne parlo prima però allora chi era questo bambino? Lossa è uno zingaro bianco gente che da così tanto tempo è mescolata alle popolazioni indigene che è difficile distinguerli da noi dai Lossa appartiene a quel genere di famiglie che come li chiamavano jenisce ecco un'etnia di zingari che però dovremmo conoscere perché il cognome Lossa non è tedesco potrebbe essere italiano ci sono dei Lossa dei Lozza nel nord Italia in giro in diverse vallate e comunque sia questo bambino era tedesco nel 1905 di sicuro perché il governo della Baviera nel 1905 fece un zigoiner book si dice così libro degli zingari non si inventa mai niente e dentro c'è il nome Lossa quindi lui era già lì e la sua storia è lui viene tolto alla famiglia viene perché la sua famiglia evidentemente non corrisponde ai requisiti di chi deve avere la patria potestà è messo in orfanatrofio poi sua madre di lì a poco muore di tubercolosi e suo padre di lì a poco muore di campo di sterminio il giovane Lossa orfano di entrambi i genitori entra nella nostra storia quando una professoressa del Kaiser Wilhelm Institute che si chiama Hel dottoressa Hel va a visitarlo in orfanatrofio e fa questa diagnosi si tratta senza dubbio di uno psicopatico è di buon cuore ma totalmente prevo di volontà instabile mentalmente quasi normodotato impulsivo però a causa della sua impulsività probabilmente Lossa non potrà mai più migliorare in modo sostanziale tuttavia si dovrà tentare con una guida molto rigida di acquerrire la sua volontà perché non vada indietro dopo la scuola lo mandiamo in un istituto per insegnargli un mestiere Lossa potrebbe essere produttivo però la dottoressa cambia idea di lì a poco questo giovane senza controllo è un pericolo per tutti per questo deve essere rinchiuso il manicomio non è possibile sopportarlo in un normale istituto perché tutto l'ordinato lavoro di educazione di un intero gruppo soffre della presenza di un ragazzo anormale o asociale per il quale non ci sono possibilità di successo educativo ma quante professoresse conosco io che potrebbero applicare la stessa diagnosi a un terzo delle loro classi cosa fanno li mandano in manicomio Lossa va in manicomio perché non ha un insegnante di sostegno arriva dove lo mettono a Kaufbeuren e lì c'è la dieta E diagnosi a Kaufbeuren sul giovane Lossa è arrivato vivace inquieto psicopatologie però non evidenti tra parentesi una nota ruba quello che può così lo mandano a Irzee Irzee la dependance è il luogo dove non si vive a lungo ragazzo arrogante sfacciato se ritiene di avere il predominio tende alla ribellione con lui nessun trattamento è decisivo capite c'è proprio indicato nessun trattamento è decisivo cioè stiamo provando ma non ci riusciamo l'erba cattiva non muore mai se gli offri bontà la scambia per debolezza 30 giorni dopo facilmente irritabile fa piccoli lavori ma è discontinuo 150 giorni dopo dopo un tentativo di dargli lavoro l'ossa ruba ancora riesce a prendere la chiave della cantina delle mele dà mele agli altri ammalati se dai mele agli altri ammalati diventi popolare se dai mele a chi ha la dieta gli rovini la dieta l'ossa nel braccio della morte dove si resiste al massimo 9 settimane resiste un anno e mezzo è un problema gli infermieri si rifiutano di fargli le punture lo conoscono troppo bene è divertente per ammazzare l'ossa viene viene chiamata dal reparto donne un'infermiera Pauline Knoisler molto esperta è stata anche sul fronte russo dove ha partecipato pare all'attività degli squadroni di angeli della morte specializzati nel fornire eutanasia ai soldati con ferite incurabili l'ossamore 9 agosto 44 al processo su quanto accaduto a Kaufbeuren il sé testimonia uno degli infermieri raccontando questo l'ossa era consapevole della morte innaturale che lo attendeva doveva aver visto pazienti che ricevevano pastiglie o iniezioni particolari sapeva di essere destinato a rimozione di dover morire presto nel pomeriggio del giorno prima di morire mi regalò una foto con dedica ce l'ha scritto in memoria la foto è questa e gli chiesi perché in memoria e lui rispose tanto io non vivo a lungo voglio morire quando sei in turno tu così mi metti bene nella bara però non ero in turno io quando sono arrivato alla mattina l'ossa non era nel suo letto era seduto a terra nella stanza dei bambini aveva il viso blu le bave alla bocca e la pelle della bocca e del collo sembravano brutale da quanto erano squamati ho provato a parlare ma è morto al pomeriggio la diagnosi è broncopolmonite dovere 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 dell'eugenetica dovere dell'igiene razziale deve essere quello di occuparsi con sollecitudine di una eliminazione di esseri umani moralmente inferiori più severa di quanto sia praticata oggi noi dovremmo letteralmente sostituire tutti i fattori che determinano la selezione in una vita naturale e libera nei tempi preistorici dell'umanità la selezione delle qualità della resistenza dell'eroismo dell'utilità sociale fu praticata esclusivamente da fattori esterni oggi questo ruolo va assunto da un'organizzazione sociale in caso contrario l'umanità per mancanza di selezione sarà annientata da fenomeni degenerativi Conrad Lorenz 1940 Lorenz quello delle papere Lorenz quello della barba bianca Lorenz dell'uomo incontrò il cane Lorenz il premio Nobel e adesso cosa faccio butto via Lorenz Lorenz era nazista della prima ora ma io ho imparato un sacco di cose da Lorenz come mi regolo già come ti regoli Lorenz diventa nazista perché è eugenista perché perché è convinto che il bene stia nella soluzione di un problema ereditario quando ero ragazzo si discuteva un sacco se uno è criminale per questioni ereditarie o se è colpa della società se rispondevi per questioni ereditarie eri di destra se rispondevi la società eri di sinistra oggi non si discute più di questo grazie a Dio l'ideologia fa un po' ridere ma com'è che io quando sento parlare di società mi par di sentir parlare di un'automobile euro zero di roba da rottamare mentre quanto sento parlare di genetica oggi mi par di sfogliare il catalogo delle novità dell'autosalone non è che continuamente c'è l'idea che con un colpo di teatro puliamo tutto e sotto sotto è il dubbio che ci abbiano già provato a risolvere così le cose e che la risposta a maledizione sia un'altra sia un'altra io non mi aspetto che la scienza produca coscienza l'ho già detto prima in qualche modo non è il suo compito però sono grato per esempio a chi ha scoperto il vaccino sulla tubercolosi ma nell'ospedale di Kaufbeuren un gruppo di bambini venne usato come cavie per testare il vaccino sulla tubercolosi essi morirono quasi tutti in maniera atroce un vaccino provoca sollievo e salute se funziona a molte persone io non sono contro la medicina e sono grato alla ricerca medico-scientifica di quello che fa ma non vorrei mai che uno si laurea e poi prende il premio Nobel studiando solo sugli ultimi dieci libri o cinque sugli ultimi dieci anni o cinque anni di pubblicazioni tecnico-scientifiche della sua disciplina senza mai arrivare a porsi una domanda su come queste cose sono state attuate e praticate cos'è la memoria questo è un esercizio faticoso che però mette in relazione qualcosa che tu fai con qualcosa che riguarda altri non lo trovi pronto Lorenz non lo puoi buttare via ma per prendere quello che ti serve non ti basta tutta la scienza per farsi una coscienza tocca studiare almeno altrettanto che per farsi una scienza e tutta questa brava gente alla fine avrà pagato il suo prezzo l'ho detto all'inizio il dottor Falklausel è stato arrestato giusto? certo guardali là Conti Brandt Braque Buller Freak questi sono criminali di guerra due di questi Conti e Buller si suicidano gli altri vengono impiccati processo di Norimberga e gli altri? oh sì anche il dottor Falklausel viene arrestato condanna tre anni di carcere infermiera Mina Verle duecento undici bambini uccisi wird irgendetwas mit mir geschehen? certo che ti succederà qualcosa diciotto mesi di carcere avreste preferito l'impiccagione? l'ergastolo almeno io sono convinto che il tribunale che ha fatto quella sentenza oggi ci ha fatto un favore perché perché se te la sei fatta la domanda io cosa avrei fatto? quel tribunale ha aperto una finestra per dirti che i cattivi non sono tutti dentro non ce l'hanno scritto nel dna quel tribunale ha risposto a quella domanda colpa della società la responsabilità personale c'è certo questi hanno ucciso ma come sono stati giudicati? sono stati giudicati esattamente come le assicurazioni pesano le vittime dagli incidenti stradali se tu tiri sotto qualcuno non danno a tutti lo stesso indennizzo ci sono i parametri maledizione e tra di noi li usiamo i parametri nel pesare le vite non è archeologia questa non è archeologia se ogni giorno agischi di inciampare in una frase razzista o in un abuso o in un maltrattamento che poi giustifichi con un parametro perché il vecchio è legato al letto? non c'è personale certo e quindi a malincuore lo devi legare perché li teniamo un anno in un centro di accoglienza come un lager? cosa facciamo? sono troppi non ci servono sono diventati bocche da sfamare non ce la facciamo sono parametri i parametri non sono chiari non li abbiamo scelti ma nel momento in cui cominciamo a lasciarli passare noi come bravi cittadini di Adamar vediamo fumo ogni tanto ma ci stiamo abituando tu scivoli scivoli ti rassegni dici io cosa posso fare? Alice Ricciardi von Platen era un medico di famiglia una giovane dottoressa tedesca che nel 1946 viene incaricata dall'ordine dei medici di fare testimonianza al processo di Nonimberga raccogli le informazioni per noi per i medici su 23 medici accusati di crimini di guerra è lei che raccoglie per prima le storie che vi ho raccontato stasera e quando prova a pubblicarle non se lo fila nessuno il suo libro solo negli anni 70 un'altra generazione di medici e psichiatri e questa sera abbiamo qui una persona Kranach che è uno dei protagonisti di quella stagione in cui gli psichiatri tedeschi hanno avuto il coraggio di guardare alle loro spalle senza l'alibi di essere stati brava gente di aver fatto tutto un po' meno male è un po' meno peggio ad Alice Ricciardi che è morta due anni fa poco prima che morisse avevamo chiesto ma come secondo te dovremmo raccontare questa storia con il più dettagli possibili anche con i dettagli che scusano un pochino allora che molte persone si sono lasciate ingannare dalle buone parole di Hitler che prima non è mai detto che oetanasia ammazzare eliminare e lentamente il popolo è stato quasi con propaganda e film e così guidato verso questo terribile fine questo crimine perché sono stati probabilmente tutti buoni cittadini e il male arriva come un piccolo piccolo nodo come il cancro che all'inizio non sai di averlo e poi te ne accorgi e allora sei già malato cosa fai cosa fai beh ti curi ci provi almeno a 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 Grazie. Grazie. Applausi. Lascio lì il libro di Alice Ricciardi von Platen. Grazie Marco, ma adesso che ci hai squarciato con questa testimonianza noi dovremmo reagire, dovremmo ragionare. Mi viene in mente la domanda che capita qualche volta di Sentifai. C'è un medico in sala? C'è un'ostetrica? C'è uno psichiatra in sala? C'è un insegnante? Cosa avreste fatto al posto loro? Credo che giunga provvidenziale insieme davvero al nostro grazie a questo punto una pausa dopo la quale cercheremo davvero di reagire se ne saremo capaci. Fra pochi minuti. E come ricomincio io dopo aver ascoltato il racconto di Marco Paolini? Ricomincio dalla lista della spesa così precisa, così anche ragionevole. Le patate, lo speck, i milioni di uova risparmiati, i 33 milioni di chilogrammi di cibo e chissà quanti milioni di marchi risparmiati sterilizzando una signora alcolista che in un secolo può produrre centinaia di prostitute, disabili, sbandati, precisi, ragionevole. Ci arriveremo, vi ho fatto una domanda e dico che questo non è un talk show e che qui chi se la sente risponde, alza la mano e risponde fin da subito che cosa avreste fatto al posto di chi stava dentro a quella grande macchina amministrativa. Però, mentre ci pensate, forse siccome un nome è stato citato di un presente da Marco Paolini ed è una persona alla quale dobbiamo un altro grazie, Michael von Kranach che è l'ex direttore dell'istituto psichiatrico di Kaufbeuren da cui abbiamo incominciato, quello dell'ultimo, il bambino di 4 anni, come si chiamava Riccardo l'ha trovata lei quella cartella clinica? Chi l'ha scoperta questa storia? Posso chiederglielo? Forse se si alza in piedi è più semplice. Bene, io sono andato all'ospedale di Kaufbeuren nell'anno 80 quando cominciò una riforma, scusate il mio male italiano è ottimo, non si può essere oppure quando ha cominciato una riforma della psichiatria naturalmente io sapevo e aspettavo la situazione precaria dei malati ma sono stato spaventato che tutto era peggio le relazioni tra i fermieri malati, la violenza e tutto, mi rendo conto in quelli tempi che tutto questo era che i tempi erano arrestati in quell'ospedale e di questo abbiamo cominciato a leggere le cartelle cliniche e a scoprire la storia di quello Quindi c'erano, bastava leggerle queste storie? Sì, perché erano tutti là E nel 1980 nessuno le sapeva? No, nessuno, nessuno perché dopo il processo di Nuremberg tutta questa storia è stata negata dimenticata e anche negata non si parlava di questo si parlava un pochino il presidente dell'associazione tedesca sempre dicevano no, non sono psichiatri che hanno fatto questo sono qualcuni criminali nazisti noi non abbiamo fatto niente Solo l'anno scorso ho letto un documento che mi ha colpito lei conosce Frank Schneider è presidente dell'associazione psichiatrica tedesca ha scritto un bellissimo testo l'anno scorso 26 novembre 2010 anzi pochi mesi fa veramente pochi mesi fa Sono 65 anni dopo il fine della guerra che è la prima volta che il presidente di questa associazione parla di questo tema È una richiesta di perdono ci sono parole nobili proviamo vergogna perché anche noi l'associazione psichiatrica tedesca non siamo stati dalla parte delle nostre vittime nemmeno negli anni che seguirono il 1945 dice e io devo per quanto in ritardo chiedere perdono a tutte le vittime ai loro familiari ma la cosa che mi ha colpito di più è scritta un po' più sotto nel documento del novembre scorso ripeto dell'associazione nazionale degli psichiatri tedeschi c'è scritto che tra i 50 esperti che ogni settimana ricevevano rapporti dalla clinica e decidevano sulla vita o sulla morte di quelli che andavano smistati venerano fra questi 50 esperti tre che sono divenuti presidenti della nostra associazione dopo la guerra due dei quali ne sono poi diventati membri onorari era così ne ha conosciuto qualcuno? sì la miglior parte e quindi la loro opera era considerata ragionevole sì non si negava si diceva che non c'era sono qualcuni morti uccisi da criminali nazisti e i psichiatri non avevano niente da fare neanche sapevano che cose succedevano questa era la filosofia forse non era considerato così riprovevole liberarsi dei mangiatori a sbafo com'è che li ha chiamati mangiatori inutili non so come si dica in tedesco nutslose era considerato qualche cosa che ha fatto del bene alla società che si poteva continuare a fare anche senza il nazismo dopo il nazismo no penso che non era un un giudizio etico non volevano parlare di questo era una cosa perché erano o le stesse persone che avevano fatto quello o i suoi discipuli c'erano volevano mentre aspetto che qualcuno risponda alla domanda cosa avrei fatto io al posto loro lo aspetto ancora ci conto che qualcuno me lo dica intanto però chiedo l'aiuto di Giorgio Cosmacini che è un medico e quindi dovrebbe anche lui farsela questa domanda ma è anche uno storico della medicina è stato citato il cugino di Darwin prima Galton inventore dell'eugenetica la scienza per migliorare la specie poi è stato citato Conrad Lawrence che tutti amiamo il quale diceva che quando i progressi della medicina ahimè hanno fatto sì che delle persone che non valevano potessero continuare a vivere cioè quando non ha funzionato più la selezione naturale come è che diceva Lawrence bisognava sostituire i fattori della selezione naturale altrimenti saremmo stati annientati da fenomeni degenerativi quindi questo modo di ragionare non è solo dei nazisti ha continuato anche dopo la seconda guerra mondiale nella stagione da cui ha preso le mosse il racconto di Paolini il darwinismo sociale e cioè la trasposizione al campo sociale della teoria di Darwin aveva generato un pregiudizio per cui se nelle società animali diverse da quella umana vive la legge del più forte per cui il leone mangia la gazzella nelle società umane non vige questa legge di natura vige un'altra legge la legge di cultura per cui per cui il debole non deve essere eliminato ma deve essere assistito una delle ultime parole che ha pronunciato Paolini è stato lo scivolo dove si può scivolare e ha detto che non è una questione di archeologia ma è una questione di attualità perché se noi ragioniamo sulle ragioni ideologiche che sono alla base di tutto quello che abbiamo ascoltato oltre al pregiudizio antisemita oltre al pregiudizio antigiudaico oltre al pregiudizio nazionalsocialista per cui il pregiudizio contro gli zingani che magari continua ancora oggi il corpo malato della società deve essere guarito dalla nazione attraverso l'omicidio terapeutico ecco che il problema dell'omicidio terapeutico l'eutanasia attiva diventa un problema medico e a questo punto la palla passa alla medicina la quale se ha una concezione meccanicista riduzionista e tecnocratica e cioè se non considera la persona ma considera il corpo macchina che se avariato deteriore deteriorato può essere rottamato ecco che innesca immediatamente quel pendio scivoloso da cui siamo tentati anche attualmente si va di bene io la devo interrompere perché ho un'obiezione per tutti voi principio meccanicistico non guardare la persona lei dice da parte dei medici ma qui al contrario Hitler nella sua lettera che non sapevo esistesse datata primo settembre 39 dice concedere la morte per grazia e come se si dicesse sono infelici anche nella lettera a quella mamma no Marco dice è una liberazione per una persona così che sia finita a un certo punto vite indegne di essere vissute vuol dire anche vite che non vale la pena di vivere molti pensavano di fare del bene secondo voi facendo quello che hanno fatto qua ancora non vedo alzarsi delle mani di fronte alla mia domanda ce n'è una dopo torno prometto volevo dire questo chi è? Pino Distaso è un insegnante dell'istituto per i cecchi di Milano un insegnante e lo dico con grande serietà io avrei rubato le mele per quel bambino io faccio la vita opposta a quello che ho sentito adesso la vita opposta dedico quotidianamente la mia giornata all'educazione dell'infanzia quotidianamente e con protergia lo faccio alzandomi tutte le mattine perché non riuscirei a campare perché queste cose io conoscevo invece il progetto T4 se ne è già parlato non puoi campare con una cosa così dentro non posso stare fermo tutti i giorni devo fare qualcosa contro questo io faccio l'insegnante cioè la mia non è una pratica quotidiana di lotta contro questo così ti posso rispondere nella mia attualità nella mia attualità non c'è la guerra mondiale c'è la crisi mondiale forse è una fortuna poterci ragionare qui in Italia avendo sì una grave crisi economica e delle famiglie che fanno fatica ad arrivare alla fine del mese però non siamo al punto di dover pensare come ci raccontava Marco Paolini qui ci sono dei mangiatori a sbafo e i miei figli hanno fame grazie a cielo la fame no ma però tagliano le cattedre di sostegno o i fondi alle famiglie che hanno dei non autosufficienti in casa c'è la guerra mondiale c'è la crisi mondiale tagliano le cattedre di sostegno è un fatto a questo punto io dagli insegnanti di sostegno ce n'è molti stasera tornerò e li invito a intervenire ma prima uno psichiatra bisogna che abbia il coraggio di rispondere alla domanda che cosa avrei fatto alza la mano stavo andando da Thomas che è un po' il nostro padrone di casa ma dopo dopo dai cominciamo io non so cosa avrei fatto io però io devo prima dire chi sei tu perché chiacchierando all'inizio con la signora Maria Fantoni le dicevo che c'era uno psichiatra che lavorava qui quando lavoravi qui? nel 1978 79 80 82 benedetto Saraceno che poi ha assunto anche l'incarico di direttore del programma di salute montale della organizzazione mondiale della sanità quindi hai uno sguardo mondiale sulla psichiatria e che mi hai detto che tornare al Paolo Pini di Milano 35 anni dopo ti ha fatto effetto beh sì perché la psichiatria ha dentro di sé una storia di violenza e di oppressione voglio dire cioè le storie che abbiamo sentito questa sera sono delle storie terribili però i 100.000 malati di mente che nel 1979 stavano nei 90 manicomi italiani stavano legati al letto stavano chiusi nei camerini di contenzione gli veniva fatto l'elettroshock stavano in dei posti indegni infami anche qui dove siamo qui io ero un giovane psichiatra ma ricordo le persone che avevano gli esiti della psicochirurgia che erano dei mostri signora Maria per fortuna lei dopo è arrivata quindi ci sono però stati degli psichiatri in Italia abbiamo avuto Franco Basaglia e molti con lui che hanno detto no a questo cioè che si sono opposti a una funzione oppressiva e violenta della psichiatria ma tutto questo avveniva 40 anni dopo le storie che abbiamo raccontato stasera di Ausmerzen e trovarsi invece psichiatra diceva Marco Paolini che alcuni erano progressisti che hanno accettato il piano di smaltimento per migliorare la società io faccio fatica a pensare che fossero progressisti e ho la presunzione e forse l'arroganza di pensare che non l'avrei fatto Thomas Emenegger che qui dirige adesso non più un ospedale psichiatrico perché non c'è più qui ma un'impresa sociale un'impresa sociale sì Olinda che è una cooperativa sociale nella quale sono coinvolti molti ex degenti se non sbaglio sì te lo sei chiesto cosa avresti fatto ma forse per 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 farsi la coscienza come dice Marco Paolini non basta la scienza forse non basta neanche conoscere la macchina come funziona nel caso nazista la macchina assassina ma anche nel caso del manicomio la macchina con i recinti e non mi sono chiesto cosa avrei fatto e forse ci può aiutare Lossa Ernst Lossa il ragazzo che non voleva morire Ernest sì Ernest Lossa quella fotografia ha straziato tutti la foto di un ragazzo che è morto a 14 anni sì un'enorme individualità e che finché rimane vittima finché rimane una diagnosi finché rimane un numero non sappiamo cosa fare siamo in grande difficoltà ma se cominciamo a dar voce all'ossa e a tanti l'ossa che ci sono in giro hai l'ossa di oggi a dargli voce a dargli una individualità con le loro speranze i loro sentimenti credo che lì queste storie poi fanno male questo è per il dopo ma per l'allora è difficile mettersi nei loro panni Benedetto Saraceno ha detto ho la presunzione giustamente di dire che ce l'avrei fatta reagire diversamente ma allora gli psichiatri o chi per essi di quel ragazzino quando aveva 11-12 anni Ernst Loss scrivevano una frase che io mi sono appuntato perché mi ha fatto molta impressione Marco se gli offri bontà la scambia per debolezza io questa frase continuo a sentirla in giro non so voi ma mi suona familiare anche tra gli insegnanti c'è questo problema di scambiare come dire per debolezza la comprensione di chi è in forte difficoltà e svantaggio rispetto alla media voleva dire qualcosa Sì mi chiamo Alberto beh io credo che avrei fatto sicuramente la dieta essendo una persona con una patologia genetica io credo che sia importante il passaggio iniziale sulla comunicazione e mi piace parametrarlo rispetto al 29 e al 2009 nel 2009 si parla di falsi invalidi e si manda una comunicazione forte e non si dà senso al fatto che esistono delle commissioni che devono valutarle perciò per un certo verso c'è una modalità di comunicazione del peso sociale e non si prende in considerazione il fatto che oggi in Italia il 93% delle persone con disabilità grave vivono all'interno delle famiglie a carico delle famiglie e si ha un po' quella percezione che effettivamente possiamo essere un peso perciò il tema che oggi noi discutiamo con un piede nel passato rispetto al futuro è che dobbiamo stare molto attenti a usare le parole e a non cadere nell'inganno che molto spesso la propaganda e la politica può offrirci e perciò fare un passo indietro non riconoscere più l'uomo ma riconoscerlo come elemento economico nella nostra società perché poi questo è chiaro che fa la differenza eh ma il periodo lì l'insegnante di Stasio ce lo ricordava è di crisi eh 1929 è stato seguito nelle date della storia dell'economia da 2008 non è passato mica molto tempo come grande recessione mondiale e il nostro welfare la possibilità di finanziare una macchina amministrativa eh è sempre più difficile per cui ci sono dei criteri di priorità oppure no eh ci sono eh dei mangiatori a sbafo che vanno in qualche modo tagliati oppure no non so se dentro alle scuole appunto questo problema ve lo ponete faccio il giro di là ma vengo dagli insegnanti permesso eccoci qua Silvano ti faccio uno scherzo perché vengo subito Silvano Pasquini musicista e insegnante ma io voglio rispondere alla domanda che mi è stata fatta all'inizio e cioè che cosa avresti fatto e dico che non rispondo a questa domanda perché è la cultura del tempo che ti fa vivere e che ti fa compiere delle azioni e quindi quando siamo figli quando siamo vittime di questo tipo di cultura purtroppo non siamo in grado di sapere che cosa si deve o che cosa non si deve fare probabilmente si deve obbedire perché questo lo vuole lo vuole il potere allora io sostengo con molta tranquillità con molta serenità che se le cose che noi dobbiamo mettere al centro di noi stessi sono inglese impresa e internet perché è quello che riporta il paese a produrre che è quello che ci toglie dalla crisi se è vero che l'uomo deve mettere al centro del suo progetto la economia e non se stesso beh io credo che l'uomo non abbia capito assolutamente nulla vorrei sperare che l'uomo finalmente capisca di essere cittadino di convivere bene assieme agli altri e di fare il cittadino e mai il suddito ribelliamoci ad essere sudditi grazie ma nel frattempo ci sono i parametri anche nelle vostre scuole non so voi ma a me ha fatto particolare effetto notare perché è ovvio ce l'avevo davanti agli occhi ma non me ne accorgevo che la questione dei parametri vitali la usiamo anche noi non tutte le vite valgono uguali per le nostre assicurazioni quindi anche dentro alle scuole dovrete pur fare delle scelte su dove mandare gli insegnanti e dove tagliare il personale vi capita? capita qualcuno di voi di doverlo fare? vengo da voi per esempio aiuto eccomi io sono un'educatrice di sostegno alla scuola materna e vorrei dire quelli che sono in realtà i miei successi nel senso che io lavoro con bambini diversamente abili e il mio lavoro è un lavoro di sostegno al bambino e alla classe spesso sono bambini molto piccoli quindi sono interprete dei loro pensieri del loro linguaggio e togliere una figura di riferimento come questa a un bambino nel suo momento più importante in cui deve raggiungere delle autonomie e deve raggiungere degli obiettivi importanti che lo aiuteranno poi nel suo percorso nella sua vita non lo trovo giusto ma perché è successo questo nella sua esperienza? io sto parlando in generale nel senso questo è quello che il mio lavoro e per come la vivo io tutti i giorni la mia figura penso che sia molto importante per i bambini per tutti i bambini sicuramente ci sono casi in cui magari non è fondamentale che l'insegnante sia a tutte le ore sul bambino questo assolutamente però ci sono dei bambini che hanno bisogno di un sostegno al 100% quando prima Marco Paolini diceva parlando di Ernest Lossa e anche qui un brividino è corso e ricordo stiamo parlando di questo ragazzino che muore in quel modo tremendo il 9 agosto del 44 a 14 anni e non riusciva a morire là dove gli altri in nove settimane se ne andavano lui durava e gli infermieri non avevano il coraggio di fargli la puntura mi è corso un brivido quando Marco Paolini ha detto beh avesse avuto un insegnante di sostegno quello lì campava vi sembra verosimile beh è vero perché l'insegnante di sostegno dà un grosso sostegno non solo al bambino a tutta quella che è la sua realtà a tutto quello che gli sta attorno lo aiuta a integrarlo in quello che è il suo mondo aiuta anche gli altri a capire quello che può essere Cosa? Certo non per tapparti la voca ma perché diamo per scontata una cosa siamo l'unico paese d'Europa che ha puntato sull'inserimento nelle classi normali di queste di chi ha problemi siamo l'unico paese d'Europa che ha decisamente lasciato perdere i percorsi educativi separati le classi differenziali parola tremenda abbiamo evidentemente stiamo pagando la difficoltà di una strada sulla quale siamo i primi per una volta parliamo bene dell'Italia magari cioè voglio dire riusciamo almeno ad essere orgogliosi di essere stati i primi al mondo a incamminarci su questa strada riusciamo ad avere orgoglio e a comprendere che le difficoltà di questo percorso che stiamo facendo non ci devono spingere alla prima problema di portafoglio a tornare indietro perché sono in tanti che guardano a noi come esempio per quel che siamo riusciti a fare così come per la legge voluta da Franco Basaglia rispetto a un orientamento nella psichiatria noi è chiaro che abbiamo problemi perché su alcune cose abbiamo osato fare quello che altri non hanno neanche pensato riuscissimo a essere orgogliosi di questo troveremo forse anche le energie di comprendere le difficoltà e di affrontarle fino in fondo ma insieme forse non riusciamo neanche a raccontarci che questa cosa l'abbiamo fatta noi la diamo per scontata non è scontata paesi come la Germania la Francia la Svizzera guardano a quello che abbiamo fatto noi come un modello possibile sarebbe una bella fregatura tirarci via nel momento in cui siamo riusciti a farci guardare per qualcosa di buono che abbiamo fatto e ora ci dobbiamo fermare ancora qualche minuto per una pausa pubblicitaria ma verificheremo subito dopo perché in tempo di crisi nel nuovo 29 che stiamo vivendo di nuovo viene il dubbio che se c'è da tagliare il personale lì fa meno male che altrove ne parliamo tra pochissimi minuti ci sono grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Le storie che è meglio che non si riproducano è una faccenda che è andata avanti fino agli anni Ottanta in alcuni paesi, ma anche nella vicina Svizzera io so che gli zingari sono stati sterilizzati ancora nel corso degli anni Settanta perché non prolificassero e non era considerato un fatto così incivile. L'Italia, ci ricordava Marco Paolini poco fa, è un paese che ha avuto un rapporto, un approccio diverso alla psichiatria, alla malattia mentale, l'apertura dei manicomi, ha assunto fra le sue priorità l'abolizione dei ghetti nelle scuole, basta classi differenziali per i cosiddetti handicappati. Ci si chiede se regga questa situazione oppure se quando la crisi ricomincia di necessità, inevitabilmente non ce la possiamo più permettere. Voleva intervenire un insegnante che è anche una mamma, vero? Esatto, sì, sono un insegnante di sostegno e sono una mamma e volevo giusto ricollegarmi all'orgoglio che l'Italia sia stata uno dei primi paesi a inserire gli insegnanti di sostegno perché io l'ho potuto vivere su mia figlia che l'anno scorso ha fatto un esame di terza media con una grinta invidiabile e con una conoscenza veramente vissuta, goduta e che da insegnante di sostegno mi rendo conto di quanto si possa ottenere, quanto si possa amare, ma con la gratificazione di entrambe le parti, quanto si possa imparare, quanta emotività, empatia, quanto ricca possa essere... Faccio una domanda antipatica, l'esperienza con sua figlia è un'esperienza di successo, lei mi dice, poi io lo so, me lo raccontano i miei figli, che ci sono nelle scuole anche dei bambini che non ce la fanno mica, che hanno delle situazioni di cronicità o di difficoltà particolarmente forte, Scusi la domanda, ma in quei casi lì non è una perdita di tempo e di soldi e di personale? Cognitiva forse, di capacità cognitive, ma non conoscere queste persone che crea la paura del diverso e l'idea di perdere tempo, soldi, denaro, queste persone generalmente comunque hanno una ricchezza di emozioni e che conoscendole si può... No, no, una persona non è solo profitto, anzi direi che forse questi sono i veri valori che la società di oggi tende a calpestare. Vuole dire una cosa a lei? Sì, volevo dire questo, sono un insegnante di sostegno anch'io e volevo dire che l'insegnante di sostegno non è soltanto un insegnante del bambino in difficoltà, è un insegnante della classe, che come obiettivi primari si pone quello dell'integrazione, dell'autonomia del bambino inseriendolo nella classe, quindi serve anche affinché i cittadini del futuro possano continuare a guardare il fumo chiedendosi cosa sia quel fumo e magari provando a evitare che questa cosa succeda ancora. Io sono un educatore che lavora in psichiatria, c'è un modo nuovo per non far vivere vite indegne, è un modo nuovo che c'è oggi, che è quello semplicemente di non proporre nulla o di aspettare che quella persona possa stare meglio, prima di proporre un progetto magari più innovativo, magari che lo porti a lavorare, ma in questo modo non si permette alla persona di vivere la sua vita, perché nel frattempo il tempo passa, la vita passa. Ancora lui e poi Benedetto Saraceno ho bisogno del suo aiuto. Mi chiamo Gerry Pental, vengo da Modena. Volevo allargare un po' l'orizzonte di questa discussione, perché lo spunto di Paolini era riferito sicuramente ai manicomi, però noi fortunatamente i manicomi non li abbiamo più, abbiamo i CPT, abbiamo qualcos'altro, abbiamo qualcuno che infonde paura su quello che è diverso. I centri, lei dice, per gli irregolari stranieri che possono essere detenuti, come raccontava Paolini, per un periodo che è stato prolungato dai sei mesi iniziali a un anno. Certo, quello che voglio dire è... In vista della identificazione ed espulsione. Esatto. Voglio dire, per fortuna non abbiamo i manicomi dove la gente muore o viene uccisa, però qualcuno li ributta su un gommone per tornare non si sa dove, queste facce noi non le vediamo più, ma sono ancora vivi? Sono parametri vitali, come diceva, mi scusi Paolini, le do subito di nuovo al microfono. Sono criteri di priorità. Lui diceva, sono troppi, ci sono vite nate qui e vite nate altrove, sono vite più importanti le une rispetto alle altre. Queste sono le domande che si facevano, diciamo, gli scienziati anche, o i giuristi in questo caso, quando poi le risposte le danno anche i politici, assumono valenza pratica. Volevo concludere dicendo, se queste persone che vengono rispedite indietro, di cui non conosciamo i volti, di cui non conosciamo le storie, non fossero più vive, chi le ha uccise? E' una domanda che mi sorge spontanea, alla fine di tutto questo discorso la rivolgo a Marco Polini. Ma le vite indegne di essere vissute erano quelle delle vittime o forse sono quelle dei carnefici? Benedetto, intanto che tu ci pensi, perché non è facile rispondere a questo domande. Tu prima addirittura hai chiesto 18 mesi di carcere per quell'infermiera che ha liquidato 211 persone. E' giusto o sarebbe stata più giusta l'impiccagione o l'ergastolo e ci hai ammutoliti? Come facciamo a rispondere? Come facciamo a rispondere? Ma in giro per il mondo, tu che appunto oggi ne sei consulente, ma fino a poco tempo fa hai diretto i servizi sulla malattia mentale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, in giro per il mondo c'è ancora eugenetica? C'è ancora la tentazione di selezionare smaltendo inocchie? Nessuna psichiatria fa esplicitamente un discorso eugenetico. Nessuno. Tantissima psichiatria pratica l'eugenetica nei fatti. Perché in quasi tutto... Pratica l'eugenetica nei fatti? Nei fatti. Cosa vuol dire? Vuol dire che i malati di mente sono vite di scarto perché muoiono dieci anni prima delle persone normali, perché hanno una speranza di vita più bassa, perché stanno in condizioni di violazione sistematica degli diritti umani, perché stanno spesso in condizioni di violenza fisica o di violenza sessuale, nella più parte dei manicomi di tutto il mondo. E c'è stata fatta delle grandi riforme come quella del Brasile, che è una delle psichiatrie più avanzate del mondo. Nell'ospedale psichiatrico Mojano di Buenos Aires sono morte delle malate pochi anni fa di fame. Dopo il primo bombardamento di Baghdad, nella prima guerra dell'Iraq, giustamente il personale è scappato dall'ospedale psichiatrico perché aveva paura del bombardamento, ma non ci è più tornato per giorni e giorni e nessuno ha più dato da mangiare ai malati, cosa che non è successa nell'ospedale oncologico o cardiologico. Cioè i malati di mente sono di fatto considerati scarto. Quindi anche se la psichiatria non fa un discorso eugenetico perché non avrebbe più senso farlo, di fatto lo mette in pratica ritenendo i malati di mente vite di scarto. Quindi questo è un fatto in quasi tutti i paesi del mondo. Per i malati di mente, concetto molto vago perché piccole malattie mentali ce le abbiamo tutti quanti a partire dal sottoscritto, sia ben chiaro. Ma qua forse mi aiuterà di nuovo Giorgio Cosmaccini. Io leggo di paesi nei quali, e sto parlando della Cina, non della Repubblica di San Marino, nel quale nascere donna significa poter essere predestinati a una immediata selezione se non è avvenuta già in fase di interruzione della gravidanza, di aborto. Perché avere una donna a carico, potendo fare un figlio solo, costa e non conviene. Questa è eugenetica di massa, riguarda l'eliminazione di centinaia di migliaia, se non di milioni di persone. È considerata pratica normale questa eugenetica ancora nel 2011 nel mondo? Lede Lerner, sono state rivendicate alcune benemerenze della cultura italiana. Senza nessuna boria nazionale, senza rivendicare primati, facendo riferimento solo alla priorità, diciamo che il nostro paese è quello che ha inventato gli uffici di sanità, gli ospedali e i medici condotti, e l'antipsichiatria. Quindi non siamo soltanto un paese di santi, di pittori, di navigatori e di eroi. Abbiamo alcuni capisaldi. Tra questi, appunto, anche l'antipsichiatria. Cosa succede nella società contemporanea? Che la medicina, la quale non è una scienza, ma è una pratica basata su scienze, guai se non lo fosse, ma che si esercita in un mondo di valori, e guai se non si esercitasse in questo mondo, è dominata da due miti. Perché la scienza fa i conti con i miti. Uno è il mito dell'ambiente e l'altro è il mito del gene. Il microfono più vicino. E qui vengo alla sua risposta, alla sua domanda. Il mito del gene. Il mito del gene riconduce tutto, tutto quanto, a quello che è il patrimonio genetico. Con tutti i rischi possibili. In questo, la psichiatria di Basaglia e la psichiatria è stato un modello per la medicina contemporanea. Perché gli psichiatri vedono prima dei medici. Perché fanno i conti con una complessità non riducibile alla macchina organica. Che comprende la complessità. Sono costretti a guardare la persona. Alla complessità della persona. E non solo i meccanismi del nostro corpo. E poi, facendo riferimento a quanto lei diceva, la congiuntura odierna, la Wall Street dei giorni nostri, e beh, la cultura tecnocratica, che non è quella tecnologica, ben inteso, non vorrei si equivicasse, è strettamente intrisa di burocrazia e di economicismo, ma non di economia di etica economica, ma di economia monetaria, che è un'altra cosa. Si fermi. Perché qua, quando lei ha detto la parola burocrazia, ora si arrabbia, ma io ho pensato a Von Kranach e all'esperienza tedesca. perché gli stereotipi, che sono sbagliati sia quando parli degli zingari che quando parli dei tedeschi, attribuiscono però a una mentalità burocratica, come quella dei disciplinati cittadini tedeschi, è appunto la spiegazione forse del perché da voi i medici di famiglia, gli psichiatri, abbiano collaborato di buon grado. Perché non vedevano le persone, vedevano solo la macchina che doveva funzionare. Questo ci deve far pensare che non è solo uno Stato totalitario che può praticare l'eugenetica o addirittura l'eutanasia, cioè la soppressione, ma anche uno Stato democratico potrebbe farlo, per disciplina? Sì, lasciami dare tre risposte. Una è che in quelli tempi e anche oggi la medicina sempre era una organizzazione molto gerarchica e in Germania più che in altre parti. E quando la gerarchia è molto forte uno può dare la sua conscienza a quello che è il superiore, non a responsabilità. E questa è una cosa che tutti hanno detto io non sono culpabile, sono quelli che hanno quello scritto di Hitler. È impersonale, tutto impersonale. Questa è la mia cosa. L'altra cosa è che la medicina, anche oggi in Germania, naturalmente noi in questa forma estrema, i medici pensano che sono persone che sono guaribili, sono inguaribili. Fanno quella distinzione. Anche ufficialmente si mettono più di risorse economiche e in quelle malattie che sono guaribili e meno in quelle che sono inguaribili. Mentre invece il malato può vivere male, malissimo, oppure può vivere un po' meglio, anche restando malato. Per questo che la etica psichiatrica deve cominciare con il più malato, mettere tutte le risorse in quello che sono più malati, più difficili. Questa è forte. Questa è forte. Cioè lei dice che non è uno spreco investire soprattutto nei casi disperati, quelli che potremmo considerare, penso agli insegnanti, la causa persa, no? Invece dice che perché conviene cominciare da lì? Sì, perché non penso che non è una buona parola dire che sono disperati, sono casi difficili, sono persone che soffrono, ma non sono disperati. Ma il suo ragionamento completamente anti-economico. Sì. Sì. E questo è il terzo punto che è molto simile, perché nei tempi di nazisti l'ideologia era che la gente aveva diversi valori, sono gente che valgono più che altri. E se cominciamo a pensare in questo siamo in discesa. Io questo ho capito, caro Marco Paolini, che tu ci hai fatto fare una serata completamente anti-economica. A cominciare dal fatto che non abbiamo interrotto con pause pubblicitarie Ausmersen e che la conclusione di Von Kranach, cioè lo ricordo ancora del direttore dell'istituto di Kaufbeuren nel quale erano custodite queste notizie che stavano nelle cartelle cliniche ma di cui non sapevamo e non abbiamo parlato, finisce dicendoci alla medicina serve uscire da una logica economica. Roba da barzelletta, direbbe forse Cosmacini, impensabile. Massimo Cirri, psichiatra anche tu. No, psicologo, nessuno è perfetto. No, mi viene in mente che forse qualcosa, un pezzetto delle cose che ha raccontato Marco Paolini unisce l'allora, il T4, la Germania di quegli anni ai nostri giorni ed è questo forse, che considerare, per iniziare a considerare una vita, vita indegna di essere diffuso, bisogna fare una sottrazione di qualcosa, bisogna fare una sottrazione di umanità e se si sottrae umanità l'altro non è più qualcosa di simile a noi e qualcos'altro e se è qualcos'altro può essere oggetto di qualcosa e non più soggetto, non più persona. Mi viene da chiedermi quanto di sottrazione di umanità ci sia adesso negli apparati delle psichiatrie, negli apparati della medicina, nel fatto che qui a Milano, nell'anno di Grazia 2011, si legano molto spesso a letto le persone che hanno un problema. Ma se non c'è personale, diceva Marco Paolini, se non lo leghi quello si fa male o fa male agli altri? No, forse il personale c'è, però il personale è malimpiegato e non è stato abituato a considerare l'altro, ancora un uomo, ancora qualcuno che ha umanità e non soltanto una cosa e quindi se si inizia a fare questo non si perde. Se sei troppo umano come fai a fare il medico o lo psichiatra? Il chirurgo che per salvare le vite umane taglia dei corpi, fa impressione, deve sviluppare una durezza, deve averci una scozza così. Una psichiatria che è dura non è una buona psichiatria. Una psichiatria che... Che è dura non è una buona psichiatria. La buona psichiatria è una psichiatria umana, è una psichiatria che investe tempo e danaro con i malati gravi e pensa che le gare sia sempre un crimine. Sempre, in qualunque condizione. E quel rapporto... Io adesso restituisco la parola a Paolini, ma... In quel rapporto su Ernst Glossa, quella fotografia che resterà impresso a chiunque ci abbia seguito stasera sulla sette, io sono orgoglioso che la sette abbia potuto raccontare Ausmerzen, potuto ospitare Marco Paolini. Sono orgoglioso, lasciatemelo dire, che settimana prossima di mercoledì manderemo il Divo di Sorrentino, un film che in televisione in Italia non l'hanno mica trasmesso, lo trasmetteremo noi. Ma lì la frase appunto scritta a rapporto su ragazzino di 11-12 anni era se gli offri bontà la scambia per debolezza. La necessità di essere severi anche per guidare, per educare. Lo psichiatra non deve essere anche questo. Il cattivo psichiatra. Il cattivo psichiatra. Io credo che se ci abituiamo e accettiamo continuamente un linguaggio violento che discrimina, che dice che ci sono, che i rom non sono uomini, che gli omosessuali non sono uomini, che i tossicodipendenti non sono uomini e donne, lentamente ci vacciniamo e ci vacciniamo e ci vacciniamo fino a una insensibilità all'indignazione che porta a degli eventi come quelli che abbiamo sentito questa sera. Marco, io adesso torno a sedermi al mio posto. ti chiedo anche scusa perché le emozioni che abbiamo provato determinavano reazioni non esprimibili nei microfoni o nelle domande e nelle risposte. Quando cominci a razionalizzare ci giri intorno ma ci resta dentro diciamo il turbamento che ci hai lasciato ed è meglio che concludi tu. Grazie. Ho cominciato con Primo Levi e vorrei chiudere con Primo Levi. Dobbiamo essere orgogliosi di Primo Levi come di Mario Rigoni. È sempre difficile parlare alle generazioni di memoria o cose del genere. Lo so benissimo che prima di questa serata non è nessuno di voi che ci ascoltano aveva voglia di fare la memoria. È un esercizio che dipende da una relazione che hai con qualcuno. Levi stasera chiudo con lui e sono sicuro che quando finisco di questa persona vi ricorderete Urbinec era un rulla un figlio della morte di Auschwitz dimostrava tre anni circa nessuno sapeva niente di lui non sapeva parlare non aveva nome Urbinec gliel'avevamo messo noi forse forse era stata una delle donne delle donne che aveva interpretato delle sillabe una delle voci inarticolate che il piccolo ogni tanto emetteva era paralizzato dalle reni in giù aveva le gambe atrofiche sottili come stecchi ma i suoi occhi persi nel viso triangolare smunto saettavano terribilmente vivi pieni di richiesta di volontà di scatenarsi di rompere la tomba del mutismo la parola che gli mancava perché nessuno si era curato di insegnargliela il bisogno della parola premeva nello sguardo con una urgenza esplosiva era uno sguardo selvaggio e umano ma anche maturo e giudice uno sguardo che nessuno di noi sapeva sostenere tanto era carico di forza e di pena nessuno di noi tranne Henek il mio vicino di letto un ragazzo ungherese robusto di 15 anni Henek passava accanto alla cuccia di Urbinek metà delle sue giornate Henek era materno più che paterno ed è abbastanza probabile che se la nostra convivenza nell'ospedale del Campogrande si fosse protratta oltre un mese da Henek Urbinek avreva imparato a parlare meglio da lui che dalle ragazze polacche troppo tenere troppo vane che lo ubriacavano di carezze di baci ma poi poi fuggivano la sua intimità Henek invece tranquillo testardo si sedeva accanto a quella piccola sfinge immune della potenza triste che ne emanava gli portava da mangiare gli rassettava le coperte puliva con le mani abili priva di ripugnanza gli parlava in ungherese con voce lenta e paziente dopo una settimana Henek annuncia senza ombra di presunzione serio Urbinek dice parola che parola non sa parola difficile non ungherese Urbinek dice matesklo 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 era vero era vero di notte tendevamo l'orecchio dall'angolo di Urbinek veniva ogni tanto un suono matesklo 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 non sempre lo stesso suono per la verità ma era una parola articolata o meglio variazioni sperimentali intorno a un tema di parola Urbinek continuò finché ebbe vita nei suoi esperimenti ostinati nei giorni seguenti tutti lo ascoltavamo in silenzio ansiosi di capire e tra di noi c'erano parlatori di tutte le lingue d'Europa ma la parola di Urbinek rimase segreta non era un messaggio forse era il suo nome seppure ne aveva avuto uno in sorte forse voleva dire mangiare o pane o carne in boemo come sosteneva con buoni argomenti uno di noi il boemo uno ce n'era Urbinek che aveva tre anni che forse era nato ad Auschwitz Urbinek che non aveva mai visto un albero Urbinek che aveva combattuto come un uomo fino all'ultimo respiro per conquistarsi l'entrata nel mondo degli uomini da cui una potenza bestiale lo aveva bandito Urbinek Urbinek il senza nome il cui minuscolo avambraccio era tatuato Auschwitz Urbinek morì i primi giorni del marzo 1945 libero ma non redento nulla resta di lui egli testimonia attraverso queste mie parole ricordatevi di Urbinek un uomini Grazie.